Avevo sentito parlare della Ringed City agli albori di Lothric, ma avevo sentito nominare Filianor durante l'ondata di conquista e morte che Volnir ha portato anche su Drangleic e Tortisio, ma quella città non mi sarei mai aspettato di raggiungerla, o tantomeno che nascondesse tanto Queen. Ha il mio rispetto, ma non è il guerriero che mi aspettavo, ma forse sono stato io, ignorante, vecchia pellegrina, distratto e istintivo troppo a lungo. Non mi aspettavo molte cose, e soprattutto non mi sarei mai aspettato di aver infine fatto la scelta giusta. Non so come la mia anima oscura sia finita in quella tomba, ma che un mercenario così aggressivo e superficiale, così giovane e simile al selvaggio me del passato, sarebbe arrivato a diventare lord of all, o se avere quella consapevolezza. Non me l'aspettavo. Sabaku II si scontrò con il suo amico. Joel abbandonò un discepolo divenuto re, quasi un suo fratello. Qui le cose andranno diversamente, anche se non ho mai sentito un richiamo come questo. Ma, ma lo so ben tradurre. Ormai lo so fare. Per la prima volta ho un presentimento di cui ho fiducia. È tutto in mano tua, F. 3, 2, 1, sigla. 3, 2, 1, sigla. 3, 2, 1, sigla. 4, 2, 1, sigla. 5, 1, sigla. Cosa. 9, sigla. 5, 1, sigla. 5, 6, 6, 1, sigla. Ehi 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 ragazzi Questa è stata l'introduzione Che tra l'altro ci ha permesso Nel tuo non averla sentita originariamente Di avere un feedback molto speciale In tempo reale O quasi con poca lag Siamo qui Quindi prima di cominciare a parlarne Io ti direi Prego puoi invitare gli spettatori A ricevere il tuo buonasera Hai assolutamente quel ruolo Saluta tutti Buonasera a tutti Amici video spettatori Qui è il buon Saidonia Molto molto emozionato stasera Allora Allora È difficile per me trovare le parole È qualcosa Di abbastanza significativo Per quello che facciamo Vero? Non avere le parole Però è anche vero Che ti avevo promesso Avrei fatto io Inizialmente l'introduzione stasera Quindi si può fare così Effettivamente Se hai qualcosa da dire Vai Qualcosa da dire è che Non sono emozionato Perché alla fine Sono emozionato perché all'inizio E sono contento Di tutto E So So Quello che ci aspetterà Molte cose che i ragazzi Non Non sanno Ed è fighissimo È È tutto bello Ripenso a tutto l'anno Che abbiamo passato insieme Tutti insieme Non solo con Mike E Sono ricordi Che non se ne andranno mai E sono contento Di averli con me Credo che sarà questo Il messaggio di stasera Per molti versi È qualcosa che anche Mike sa La figata non è tanto il Aver raccontato dei protagonisti Ma aver raccontato Siamo arrivati alla fine Ma siamo anche all'inizio Di un percorso incredibile Con tutte queste persone Che Amano quello che facciamo E La cosa bella è che L'amiamo anche noi Quello che facciamo E quindi si crea Questo circolo virtuoso Immenso Sì Di 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 rispetto Di stima Di Fusione anche Di due community Che erano lontane Ora super vicine Sì Abbiamo fatto qualcosa Di molto più speciale Di vincolare il fuoco O Dare un futuro All'oscurità Che Kat Desiderava Mentre Mentre streamavamo Tutti questi Tutti questi Giochi E creavamo Roleplay Sigle Robe Abbiamo Generato qualcosa Che rimarrà Per sempre E Non ho paura Di questo Anzi Mi ispira Mi ispira Per fare qualcosa Di ancora più bello Domani E Sono contento Di aver Cominciato questa cosa Con te E Non vedo l'ora Di vedere come proseguirà E Non credo In sei anni Che faccio Di questo lavoro Di essere Mai stato emozionato così Grazie Hai A tutti Praticamente Fatto A modo tuo Una vera Introduzione Quindi Io mi Siamo Siamo irrefrenabili Dinanzi All'impulso Di condividere E Ti dirò Ok Tocca a me Ti posso dire questo Sono pronto Qualcosa di assolutamente Non scritto Non ho voluto minimamente Preparare nulla Di questa intro Volevo semplicemente Esserci Anche in nome di ciò Che rappresenta essere A conti fatti La piattaforma Essere Come si è E tu In queste tue prime parole Hai parlato di qualcosa Che rimarrà in eterno Ed è qualcosa Un concetto Che io ho sempre ripetuto Nei confronti delle cose Che condividevo Che Esponevo E pubblicavo Sul web E talvolta È stato anche criticato Presumendo che fosse Una sorta di Estremo egocentrismo O sopravvalutazione Del mio contenuto Il lavoro Quando in realtà Appunto Come hai sottinteso Tu hai sempre A quanto pare Sentito e percepito A tua volta Non è assolutamente Quello il punto Il punto è che Questo è qualcosa Che indipendentemente Da quello che Può essere il risultato O la sua Oggettiva Qualità O Diciamo Contenuto Rimane ben Oltre noi Comunque È qualcosa Che noi Dimenticheremo Nei particolari Ma quei particolari Saranno sempre lì Recuperabili E vivibili In Praticamente Una coppia Perfetta Della realtà Che Se siamo stati In grado Di farlo Porterà anche Le sue emozioni Fuori E permettimi Quindi di Aggiungere Una vera intro Non una risposta A un Piccolo concept Che hai aggiunto Nella tua E che mi ha colpito Io sono sempre Stato Profondamente Creativo E nella mia bolla Ho seguito Cecamente E con quanta Più saggezza Possibile Quello che erano Le mie idee Del fare Il meglio Del fare Il bene E dell'offrire Talvolta Anche un servizio Ma Quando ho avuto La possibilità Appunto Di condividere Qualcosa L'ho fatto Anche Al pubblico Quanto più possibile Senza però mai Uscire da certe Barriere Perché Per quanto la condivisione Fosse importante Non era necessario E cruciale Che proteggerla La condivisione Può essere facilmente Resa In qualche modo Non dico sporca Ma Diversa E Meccanicizzata Commercializzata Qualcosa che Sicuramente Ecco Ed è qualcosa A cui sempre Ho posto La massima attenzione Dallo star Quanto più lontano possibile Tuttavia Tuttavia Quando ho avuto Le prime interazioni Con te Comunque Percepivo Un eco Che fosse Perlomeno La passione Una passione Che le community Ci hanno sempre Introdotto A condividere Fra noi Perché Siete più congrui Di quanto non pensate Se si guardavano la durata Dei video Esatto Le ovvie Differenze E così via E quindi Dinanzi Anche al mio Impulso Quanto più infantile E ludico Possibile Di Condividere A qualcuno Dark Souls Che è un po' Il principio Di ciò che mi ha portato Sulla piattaforma Oltre ai miei sogni Di critica e divulgazione Che allora Non c'entrano niente Ho trovato La scintilla Di dire Davvero Non sa niente Perché io Condivisi la Metal Gear saga Con il mio pubblico Chiamandola Veteran Run Anni prima Ed è stata una delle cose Più speciali Che abbia fatto Perché è stato Raccontandolo al pubblico Sì È stato il finalmente Portare Non con Magari il peso Del dover essere Perfetto E quanto più Roccio possibile Nel contenuto Ho potuto Letteralmente Tramite Twitch Essere in un divano virtuale E condividere Quello che mi ha formato E quanto ne potevo Essere in grado Di dare Come Racconto Anche a volte Mentendo Nascondendo O mettendo Eccetera 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 E quindi Ho pensato Cavolo È tanto Che non parlo Di Dark Souls 1 Condividiamolo A Cydonia Potrebbe essere L'occasione Anche per finalmente Uscire da una piccola Solidissima barriera Che mi sono sempre Tenuto accanto E contemporaneamente Conoscerlo E vedere Che succede Adesso siamo qui Ed è vero Non è una fine È prima di tutto Un inizio Però È anche una fine Ed è una fine Molto importante Molto più di quanto Razionalmente Potresti immaginare Dinanzi a una semplice arena È una semplice boss fight Di un titolo orientale Anche perché Te lo dico In una maniera Che non so Come invecchierà Perché sono quelle cose Che nascono spontaneamente Ma Io non sono riuscito Facilmente In questo monologo In flusso di coscienza A computare il fatto Che abbiamo passato Insieme Io e te Più ore Che quasi Con chiunque altro Quest'anno Noi abbiamo Passato Qualcosa Come immagino Un 300-400 ore Insieme È qualcosa di Enorme Enorme E Sono indimenticabili Perché io in questo Non soltanto Ho vissuto la creazione Di quello che era La condivisione Dei ragazzi Per i ragazzi Dai ragazzi Da me A te Da te A me E in questo ecosistema Che creerebbe praticamente Il simbolo dell'infinito A livello Iconografico E shoneniano Io ti garantisco Che caratterialmente In questo sono abbastanza Un Selettivo E un po' bestia Un po' chiusino Anche Per quello che c'è stato Nella costruzione Intorno All'aspettare la serata Raggiungere la serata Parlare della serata Incociarci Anche nelle cose In cui non si poteva Diciamo Chiacchierarci troppo Perché tu dovevi rimanere Completamente la cieca Io ti garantisco Che Stuzzicando anche I nostri cari spettatori E ragazzi Nel dire Che Sì c'è ancora Quella storia Da raccontarvi L'anno prossimo Perché esiste Assolutamente E verrà Esposta Con grande dolcezza Quella storia Esatto Esatto Che fa parte Esatto Di questa Diciamo Chiacchierata Io ti posso Garantire Che in tutto questo percorso Io Ho scoperto Trovato E quanto più possibile Coltivato Anche un amico Del più vero Possibile Ed è qualcosa Che negli Enta Specialmente con un certo carattere Non Si tende A fare Quindi Sai che lo stesso vale per voi Quindi Credemi Io non so quali saranno i risultati Di stanotte Io Ho Pensato Per mesi Anche al sol Farti arrivare Una scintilla Di quello Che si nasconde Nell'idea Ma so che sei molto Ricettivo E rispetto Quello che tu hai raccontato Nel tuo monologo iniziale Tanto emozionato E tanto importante Credo di aver trovato L'idea giusta Quello Che vivrai Stasera Se funziona Io Ti Assicuro Indipendentemente Dal fatto Che sia Un momento In un videogioco All'interno Di una storia Che è un contenuto Online Piccolo Che sia Sarà uno Spillo Non te lo dimenticherai Mai più Sarà qualcosa Che ti porti dietro Sarà qualcosa Che Avrai Come quella volta Quella scena Me la ricordo Quel momento Me lo ricordo Quindi Grazie anche a te Grazie anche a voi Tutti Che siete voi Ragazzi Assolutamente Un'emozione Io Mi sono connesso I brividi Ho Una leggera Attachicardia Che io Ecco Tendo Adesso Ad avere Abbastanza controllo Ma Sarebbe facile Avere Le punta delle dita Che tremano Avere qualche tremolio Ho brividi forti E Questa cosa Poi La Rivaluteremo A fine serata Vediamo Che succede Quello che posso dirti È che Per ora L'introduzione Del nostro finale Prenderà Un Momento di respiro Di espirazione Prima di Inspirare di nuovo Per il climax Adesso Facciamo così Adesso sarebbe incredibile Se tu mi chiedessi Tipo Vabbè Ammazza tutto Firelink Esatto Stavolta Ma È per questo Che l'ho già fatto prima È già successo Ti ricordi Ti ho fatto uccidere tutti Ma Quello che possiamo Dobbiamo fare adesso È Il party Per il pitto Ah già Ci siamo Completamente Dimenticati Oggi E non mi devi ancora invitare Allora Allora Aspetta Aspetta Ti faccio Ti faccio tutto Allora Comunque Tanta roba Tanta roba Ragazzi Tanta Tanta roba Firenze Esatto Cassandro Sabacujo Quante ne abbiamo Tortizio Sblumbo Ma quante stronzate Incredibili Abbiamo fatto Ma poi Quanto Si sono Sviluppate C'era C'era la tua La tua voce Dicevi scusa No E poi Quanto Si sono sviluppate Assolutamente Però Si sente ancora La tua voce Mutato 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 Guimpipon Eh sì 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 Tante cose Ragazzi Sono successe Vabbè E io devo mettere La musica Per la musica Però Anzi no Mettiamo 8 Tanto la musica Del boss finale Sarà bella Cazzo Metti 8 Metti 8 Metti 8 Metti 8 Metti 8 Se vuoi puoi anche Mettere 9 Ah sono devastato Sono distrutto Eh guarda Io Non pensavo Una cosa del genere Sarebbe mai successa Condividerlo così Con te Esatto In questo modo Cioè Mi viene Genialmente Voglia di Andarmi a Rivedere Parecchie cose Ah ma guarda Io ti dico questo Io ti dico Ti devo dire questa cosa Perché La trovo Fondamentale E A me mancava Un pezzo Di Tutto E quel pezzo Di tutto Io Lo sto capendo Con la veteran Di diamante e perla Se sono molto Emozionato Stasera È paradossalmente Perché stiamo facendo Anche diamante e perla Insieme E tu mi dirai Che cazzo c'entra Oh lo so C'entra Perché ho capito Cosa tu fai per me E cosa tu provi Quando io Ho certe reazioni Su dark souls E Nell'ultima puntata Magari qualcuno ancora non l'ha vista Quindi non vi dico nulla Di quello che è successo Ma nell'ultima puntata I tuoi Sono venuti da me Chat A scrivermi Minchia non avevo mai visto Mike così emozionato Davanti a una cosa del genere Ci vede proprio Che gli hai Trasmesso la passione E quindi Sono stra emozionato Perché ti dico Ci sei riuscito Cioè sappi che ci sei riuscito Anche tu Io sono qui Super preso bene Da dark souls Ci sei riuscito Ti è riuscito Ti riesce Condividere la tua La tua passione di dark souls Non solo con I ragazzi Ma anche con un collega Non è una cosa semplice Per niente Ma ti assicuro Che ci sono Cioè io non sono qui A fare entertainment Io sono qui A emozionarmi Per il titolo Che stai condividendo Con me Capito E questo è Il sogno realizzato Perché comunque Considera che Effettivamente Tende a succedere In maniera molto naturale Il creare contenuto Sinergizzare tra creator Fare cose insieme Così che si Vada a costruire Una carriera E una cosa che funziona Una cosa che funziona Qui È accaduto qualcosa di diverso Doveva esserlo Fin dall'inizio Ma si è Ascesi E trascesi Particolarmente Lascia che Ti aggiunga un ultimo dettaglio Lo hai sentito Almeno sei volte Solo in questa run Sette è un numero sacro Quindi Va bene Andiamo a ripeterlo Il fatto È che Siamo Sei Sono Riuscito E tu Hai vissuto Uno dei titoli Più Disprezzati Nella saturazione Di una scrittura Che era Palesemente Per tutti Incomprensibile E additiva Cannibale E Contorta Quando Non era davvero così Tu hai potuto apprezzare E vivere l'esperienza Di Dark Souls 3 Come Era stata scritta Per essere Se non ci fossero stati Quattro Cinque filtri Disastrosamente Scorrelati E squilibrati E poco sinergici Fra loro Tra l'autore E il consumatore Capisco che vuoi dire Ora molto più di prima Sappi Assolutamente Capisco Tutto E sono pronto Ok Ultima cosa Perché questa cosa Non te la voglio chiedere dopo Te la devo chiedere adesso Tornando quindi Meno All'emozione E un po' Al cuore e mente Quindi Dark Souls 3 Mentre mi mandi il picture in picture Che ne pensi? Il miglior gioco della serie Secondo me Grazie a Dark Souls 1 Ah bravo Sei stato perfetto Lui non è autonomo Non lo è È il miglior gioco della serie Avendo giocato con serietà Dark Souls 1 E avendo approfondito molto I significati criptici Di se stesso Grazie Nel mio caso a voi E grazie nel vostro caso A voi stessi Alla vostra ricerca Tenacia Volontà E tenacia Si si E volontà di Guardare Oltre Quindi Mi è piaciuto più di tutti gli altri Ci sono Ci sono le mie boss fight preferite Ci sono le mie musiche preferite E avverto ancora di più il senso di fine di tutto Rispetto a Dark Souls 1 Perché anche Dark Souls 1 è un mondo alla sua fine Ma certo Solamente che poi quella fine viene posticipata Attraverso Dark Souls 3 Esattamente E Dark Souls 3 è la storia di un posticipo di una fine È la storia che stiamo vivendo Doveva già finire Ed ecco perché dico che sono emozionatissimo Anche noi Siamo andati avanti oltre un anno Ma poi deve finire E questa la storia Deve finire Deve Deve Arrivare a una conclusione Noi oggi Dobbiamo lasciare andare Carichi sicuramente Di quello che Ci aspetta Carichi di qualcosa Che tra l'altro Non sarà soltanto seguito Ma anche per questo È difficile lasciare andare Sarà Nuovo Noi avremo esperienze Nuove Quello che si avvicinerà a questo Sarà Arceus E che in questa sinergia incredibile Esce Così vicino All'esperienza che abbiamo fatto Con Diamante e Perla Il che è una cosa che mi elettrizza Da morire Però Elden Ring Sarà qualcosa di completamente nuovo Perché sì Non sarò blind No Non potrò assolutamente Avere L'Eco Neanche Che è la scintilla Della competenza Che ti ho dimostrato In questa trilogia Quindi sarà Una sinergia Una complementarietà Completamente diversa Completamente diversa Sarà Molto interessante Da vivere E poi La cosa si rispecchierà E rifletterà In forma Un po' più di nuovo Sbilanciata Ovviamente Con Apporto anche Dal giapponese Che sarà incredibile Con Bloodborne Che è astratto E creativo Come affronta Come metodo Di Narrazione E narrativa Non vedo l'ora Non vedo l'ora Non vedo l'ora Allora Ma io ve l'ho detto ragazzi Cioè Vi aspettano almeno altri Boh Due Ma che Tre Anni Solo per la roadmap attuale Ma non sappiamo che giochi escono No no Esatto Per la roadmap attuale Per la roadmap attuale Quindi finisce L'industria del videogioco Non fanno più niente Domani Regi fa il suo solito discorso Sull'industria Che tanto lo fa ogni anno E dice ragazzi è finita Basta Domani esce l'ultimo videogioco Della storia Se questo accade Abbiamo ancora tre anni Poi vediamo Allora Allora Quello Che Ti suggerisco di fare adesso È intanto Per Per riattivare Uno dei finali Parlare di nuovo Alla guardiana E chiederle Che dopo tutto Non sarebbe così male Far finire il fuoco Perché tu le hai restituito Gli occhi Ma devi ancora Innescare il finale Visto che l'hai uccisa Recentemente Vale a parlare Dalle Il beneficio Del dubbio Che ti è scaturito Faccio backupini? Sta per arrivare Anche il backupino Ma non ancora Ok Il backupino È qualcosa Che arriva Ma gliel'ho già dati Gli occhi Devo semplicemente Dirle che voglio Far finire tutto Ok Quindi Parla Ah è vero È vero È vero È vero Aspetta 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 Non mi muovo È vero No perché ho cambiato Ho messo la password Ma probabilmente Sei vista nel tuo pip Aspetta Aspetta Facciamo una cosina Facciamo una cosina Aspetta Aspetta Allora Nascondi un secondo Il mio pip Sì Nascosto Ok Fammi vedere Se posso aggiungere Fammi vedere una cosa Allora Ok Poi Tu sei pronto In caso A cambiare la password? Sì Certo Ok Ok Facciamo così Te la scrivo Su Discord Aspetta Credo di aver premuto Il tasto PS Non so se si è vista bene La tua Non so se l'hai già cambiata Io L'ho cambiata Però Ah ok Aspetta Aspetta Ricambiala di nuovo Per sicurezza Ok ok Fammi pensare Fammi pensare Deve essere qualcosa Un po' di incomprensibile Ok 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 vai vai Perfetto No Ne prendo una Simpatica E incomprensibile Allora Vediamo un po' Facciamo così Allora Fammi pensare Com'è che si chiamava Il tipo che è apparso Durante il finale Dark Souls Ah Soul 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 555 Soul Allora L'ho stampato Nelle retine Tu vuoi Evitare Soul Con questa password No beh Allora Il fatto è questo Visto che comunque Nel finale Voglio Esserci Come personaggio E che io ho sempre La password Per il pvp Ho rimesso la nostra Ma ero in pip E quindi Si è vista Allora Era per evitare Che si riempisse Lo schermo di Cose che ti occupano Lo spazio in multiplayer Allora Vediamo un po' Ok Allora faccio È fatta Ci stanno i caratteri? Sì Ok ti mando Senza troppa creatività Stavolta Ok Ah ci siamo Gra Gran No in realtà È creativissima Non dire questa cosa Aspetta Tu nascondi tutto Stavo mettendo in carica Il joystick Che sennò finisce male Allora Per metterla però adesso Devo Ritornare Tu l'hai tolta? Io adesso Sì adesso l'ho tolta Aspetta aspetta Faccio così Faccio prima Così Loro adesso Vedono tutto nero Così è easy Perfetto Quando l'ho messa Ok Gran password Gran password Ragazzi È il finale di Bloodborne Sì esatto L'ho spoilerato Nella spoilerato Ragazzi È andata così Ok Ci siamo Ok Vado No l'hanno indovinata La password E Petrus Merda Qua un tea day Ok ok Comunque Ci siamo Ok Allora Quindi Siamo Ah siamo 12.000 Va bene Perfetto Ok Allora Adesso Ci sarà una sezione Di gameplay Per rinfrescare un po' La mente Calmare i nervi E caricarci più Diciamo Romanticamente Piuttosto che con questo build up Sofficante Quello guarda Non ho problemi A caricarmi romanticamente Oggi però E allora No appunto Ma questo lo facciamo Questo sarà romantico Perché C'è qualcosa Di molto dolce Da ricordarti Sai che c'è una parte Di Dark Souls 3 Che tu non hai mai completato Perché ti terrorizzò a morte Davvero? Sì C'è una parte Che ho voluto tenere Fino alla fine Fino all'ultimo istante Non perché fosse Diciamo Scrigno di gravi Grandi twist Ma C'è un posto Che tu Nonostante la tenacia Nonostante il tuo Modus operandi E forma mentis Così vicino al mio In questo Dicesti No Devo lasciare Qual era? Ed era Non è Ariandel Era uno dei percorsi Di Ariandel È vero Era la parte Quello dei cavalieri Di Millwood La salita dei lupi Esattamente È vero Allora Devo prima parlare Con la guardiana Però giusto? Per sicurezza Non è necessario Ma tu Desidera un mondo Primo di fuoco Devo dirle Sì Sì Tu dirle Perfetto Aspetta che non l'ho mai letto Questo dialogo Allora forse L'avevamo già fatto Esatto Ma non volevo Correggerti Se ti rinfresca la memoria Tanto meglio Ariandel Primo falò È il momento Di vendetta Ah infatti godo Primo falò Giusto? Sì E andiamo tutto a destra Bravissimo E chi se lo scorda? Che livello ero ragazzi Per curiosità? Qualcuno se lo ricorda? Ah io credo 40 o 50 Adesso ti diranno È il finale rimandato Sedena e Sabaku Passano 4 ore Con i guerrieri di Milui 45 Eh infatti 43 quando sono arrivato Però non potevo livellare Vi ricordate? Quindi 43 e basta Non abbiamo Ora sono al 110 Beh dai È con un equipaggiamento raddoppiato È esatto È con una più 10 in mano Allora Tutto a destra Si va Giusto Ora qua arrivavano i lupi Esatto Ma posso tranquillamente Fare lo skipperoni In teoria In realtà sì Era questa parte qua vero? Tra un po' Tra un po' L'avevi superata questa Ah sì? Sì 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 Qua avevi esplorato con grande coraggio E tenacia Ah ma minchia Ora lì bisciotto Vabbè Bella Aspetta che non voglio portarmeli dietro Oi ragazzi Fai bene Cosa fate scappate? Poi vi ringrazierò tutti ragazzi Ho visto cose incredibili Nei doni E nella vostra presenza e supporto Adesso concentriamoci tutto sul risultato Sì, sì, oh no, come farò? Devo mettere la katana di Midir? Non ancora Goditi assolutamente la tua possanza adesso No, è che ho pensato Se il boss finale è perriabile Voglio perriarlo E ecco la katana non posta Cioè con la katana di Midir non posta Devi fidarti del maestro No, 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 io faccio tutto quello che mi dici Lo sai Ah, giusto che c'era anche la tipo alberello là sopra Sto andando piuttosto baldanzoso adesso No, comunque sono comunque pericolosi Però Tu finalmente lo sai di più Non devo sottovalutarli Aspetta che ammazzo il tipo che fa Lo splendido qua Perfetto Come volevo fare a farla a quel livello io? Che pazzo di merda Ragazzi ho imparato l'arte del calcio Nell'ultimo episodio C'è il calcio in Bloodborne Vabbè tanto se no c'è in Ender Ring Ah ok 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 Adesso dovevo buttarmi qui Qui in realtà tu sei andato dalla parte sbagliata Qui torno indietro Hai pulito l'aria però Ah giusto Perché non è qui ma dall'altra parte Corretto, corretto, corretto Esatto Cavalieroni grossissimi Aspetta per ora c'è il lupo Il lupo ormai lo hai eliminato Ah va lei come boss Cioè non torna più Era lo stesso lupo della boss fight sotto No 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 Ok quello che tendevo a dire io Una volta fatto come boss Lui non torna qui No Ok ok Ecco qua Questa è l'aria Sono perriabili loro no? Eh se tengono l'arma a una mano si Però è difficile Ok Grande This is the end No this is just the beginning Bravo Hai completato Quello che tra l'altro Uno dei miei titoli finali Mi hanno scritto una canzone Alla fine di una blind run Che diceva esattamente così Eh ma me l'hai fatta sentire Quella è quella di Cristina Sì qua Ah sì questa è quella di Cristina We are the souls Sì sì Quel bellissimo video di Paridel Esatto Ah già Che c'era quello splendido ragazzo Che tirava le frecciotte Esatto E voglio vedere come me le tira qua Aspè che ci sta prima il cane Il cane Vai Bravo cagnolino Bravo Cosa che vuoi fare? Come scusa? Non ho capito Non vuoi più perry Hai detto? Maestro Ho detto che non vuole un perry Che facciamo? Non puoi assolutamente Permetterti di abbandonare Un'occasione di punizione Come questa Hai ragione Allora aspetta Ti faccio vedere un attimo Come fa Ehi Eh si fa così il perry Non so se Me l'ha insegnato Sabaku Tu l'hai mai avuto un maestro? Non credo Ah 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 Eh tu non puoi essere perry Atoms Ma fanno schifo Sì ormai Sono burro E tu non lo sei più soprattutto Eh si Oh no Oh no No Quello non lo puoi perryare No non lo so Stavo provando a danzare ma È troppo lunga la combo Combo? Ah o è Freccia a distanza Guarda Guardami Cassandro Come tortissimo No mi prende a frecciate Oddio Simili ai guardiani Del giardino reale Di una sella Ma sto giocando Sto giocando Oddio Sono in vena di scherzi Va bene Giochiamo Aia Fammi scegliere tutte le armi che voglio Dai Giochiamo Giochiamo Biochiamo 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 finalmente dentro la torre senza paura esatto ormai sei oltre you're past that il tipo che lancia le frecce qua sopra finalmente ci sei sono stati 3.000 anni it has been trita conosci quella citazione oh ma cazzo ma è oscuro lui ma era il frecciatore si oh mio dio la gravità sono morto no sono vivo si vivo non so come ma lui arriva tra due anni eh allora guarda ti ringrazio duello onorevole così posso perriarti grazie guardo anche se è un decotto eh fra scusa un secondo non ce l'ho purtroppo però ti posso tirare delle ti posso tirare la merda se vuoi delle bombe quanto onore eh perché non scendi ah perché non puoi credo può oh mio dio il bug bug pazzo sono vivo ma cosa sta succedendo ragazzi ragazzi sta succedendo tutto dov'è aspetta aspetta vediamo un po' ho un'idea no ti stai insieme no scappa questa cosa è stata ciandissima è stata ciandissima è stata ciandissima è stata ciandissima è troppo bello sto gioco no no l'inquadratura è il target il cameraman di lottica qui ci si è messo in tutto in tutti i modi cazzo io cercavo di girare la telecamera e stava glitchando tutto è stato incredibile comunque mi sono proprio girato tipo zitto e hai visto? so come si arriva a quel posto saltando? sei già stato in cima? sono in cima credo esplora bene ah 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 no grande anima di guerriero sfinito come me ceneri del capitano volevi farmi prendere queste? yes you did it guardate che chad questo è avere i reni molto forti madonna guarda là si sta tenendo solo col culetto bene bene allora scendi con delicatezza e con attenzione quindi era questo quello che mi volevi far fare e come ultimo passaggio farti finalmente finire la scalata da dove c'era il lupo si ma quell'oggetto è importante? beh no ok non lo prenderò quindi ora riscendo tutto full maledetto bastardo più avanti dicono che è importante sono riuscito a trovare grazie alla moderatrice anche il commento quindi adesso ti potrò dire appena raggiungiamo la scalata i tuoi try per tutto Darksons o no si sta vendicando anche lui no scusa mi è un duello questo mi rendo conto l'ho vinto ma ce l'ho il calabro si dicono che era l'anima di Ariamis quella che abbiamo lasciato pensa pensa allora qui questa era la scalata in cui appariva il lupo che ti dava tanto filo da torcere intanto ti dico la classifica dei tuoi try contro i boss sono pronto primo posto sorella Frida 44 try madonna il re senza nome 24 madonna terzo guardiani dell'abisso 18 però vabbè quello è speciale non era per anche il prossimo è speciale custode del campione 17 sono quelli che abbiamo fatto noi quella notte folle ah è quello di Ariandel si Sullivan che serata incredibile 14 Midir 10 Danzatrice 9 come il principe demone Gael solo 6 Vort 5 Saggio di cristallo 4 Antica viverna idem Wolnir 3 i due gundir entrambi due tentativi insieme a Gran Bosco e Aldrich infine una sola sconfitta al vecchio re demone e ai principi gemelli i diaconi delle profondità Jorm o Seiros l'armatura della mazza draghi e il lanciere della chiesa first try beh dai fantastico è andata bene è andata bene scendi dai sono contento altro che con quanto mi promuove maestro ho il debito a settembre a fride vediamo che succede vediamo come andranno le nostre ambizioni su Elden Ring salivan l'aveva già detto mi sa 10 salivan 9 si 9 o 10 14 no ah 14 ok 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 14 ok quella è la cappella di Friedrich ma sono caduto esatto era esatto era il famoso shortcut esattamente beh dovevi vederlo allora adesso mettiti vicino al falò metterò il mio segno rosso così ti passo delle braci ok io ho puttato tu resti il ponte ho visto ho visto ci si vede al falò F esatto 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 ragazzi è stata quella scena che bello fride la stavi soft resettando per trovarla che era il fride allora segno rosso dovrebbe apparire anche se non sei in forma di braccia ah no forse tu devi mettere il segno no io devo io io non sono bracciato quindi si lo devo mettere io eh mi sa che devi metterlo tu esatto pardonnezmoi vuoi un duello duello di fine trilogia io purtroppo sono un personaggio broken as fuck quindi no no non preoccuparti non è come non posso perriarti non puoi perriarmi ti è appena comparso cosa ah è vero mi era comparso devo fa devo annullare ma era lì no è il tuo quello scusa lasciati non toccare nulla non toccare nulla non toccare nulla ma io non sono bracciato come può comparirmi ah ok allora mi ricordavo bene ma c'ho l'ansia stasera quindi no quelli rossi quelli rossi possono apparire a priori ah ok ok però è bello vedere F come Red Phantom finalmente ok al rosso non serve eh ragazzi non lo sapevo perché noi non lo stiamo usando praticamente mai non l'abbiamo mai usato in tre giochi c'è il pvp in Bloodborne so che ti faccio un sacco di domande si ok allora sei sopra mi sa eccoti ora ti do un bel po' di effigine così ci si prepara raccogli pure mamma mia si è così difficile il boss finale no 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 è giusto per darti il meritato calore affinché tutto vada per il meglio ora in effetti puoi leggere la descrizione delle ceneri è morto ora tornerai nella tua mappa volevo leggerla ma è stato più veloce l'SSD cenere oscura del capitano dei cavalieri di Millwood permette all'ancela del santuario di creare nuovi oggetti in tempi remoti i cavalieri di Millwood persero la foresta in cui abitavano e partirono per un viaggio talmente lungo che i ricordi dei loro nemici svanirono per far posto alla visione di fragili alberi gelati quindi sono arrivati fino ad Ariandel e nelle descrizioni esatto diventando vuoti nelle descrizioni delle armi dei set di Millwood si parla del loro acerrimo nemico un drago oscuro e tu l'hai incontrato è mi dire esatto quindi loro sono comunque guerrieri molto antichi che in tempi remotissimi avevano a che fare con il drago degli dei però erano nemici del drago quindi forse o volevano già abbatterlo come l'ho fatto io perché era già stato contaminato oppure magari non credevano nell'utilizzo di un drago cioè volevano abbatterlo perché era comunque un discendente di qualcosa di pericoloso ma guarda questo è dato alla speculazione ma ti ho anche fatto arrivare qui alla fine della nostra avventura perché c'è una parte di community e non mi sento di dire che è sbaglia per ora poi vedremo che pensano che i cavalieri di Millwood siano un po' il Chester di Dark Souls 3 nei confronti di Elden Ring ossia esatto che la loro storia il loro setup la loro estetica un po' richiami qualcosa che vedremo l'albero dietro è capito esatto esatto è vero è vero è vero ci sta potrebbe essere tranquillamente anche perché vabbè non dico niente però potrebbe starci non dico niente non perché riveliamo chissà che cosa è roba del CNT però potrebbe essere potrebbe essere non voglio spoilerare ovviamente a chi non ci ha giocato il CNT non vuol sapere niente allora cominciamo al finale ah ok cominciamo al finale ci siamo teletrasportati al santuario della fornace è in fondo il disegnino con l'eclisse il desert quarto ultimo altare della fiamma è estinta giusto? sì allora sei qui partiamo col fatto che comunque hai già scoperto del ricettacolo e ora hai infine il permesso di uscire definitivamente completamente dal santuario non soltanto per una rapida occhiata sei più libero vado è tutto buio può sembrare banale ma dice tutto no? ecco qua il sole piange dinanzi a questa visuale hai due compiti il primo è togliere la chat ma certo fatto ragazzi quindi è più tardi vedrete che vi leggeremo il futuro il secondo è fare il backup allora mi devi guidare non lo faccio mai devo premere home giusto? sì allora intanto accendo il falò giusto? esatto sì sì no 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 e l'ho fatto non importa non importa non succede nulla sta caricando cose le faccio vedere? charla sì sì fai vedere non ti preoccupare ok ok fornace della prima fiamma ok e ora qui io dico voltati voltati di 180 gradi cerca il falò è qua vicino io ti direi di tornare indietro ok vai al falò ok torno proprio indietro esatto torna indietro che pensavo fosse un falò invece era un teleportino esatto però non fa teleportare sta facendo cose ah no sono io che faccio il coglione dicevo non mi permette di usarlo questo falò ah si è stato invaso immediatamente da soul tra l'altro com'è possibile questa cosa? ammetto che nonostante abbia sbagliato all'epoca questa è stata una kick questa merita non ha mai più disturbato né fatto nulla di male ti ha invaso alla fornace di Dark Souls 3 merita un 5 comunque questo questo sono d'accordo questo l'ho apprezzato questo l'ho genuinamente apprezzato ok dai soul duelliamo duellate no 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 duelliamo alzati in piedi ok questa è stata bella sì mamma mia quanto toglie eh quello è forte cosa cosa oh no ma quindi ebbè era ovvio è uno sbloombiano era ovvio era ovvio non poteva essere altrimenti sbloombata unlucky mamma mia non salire troppo io lo dovevi dire ora lui sa che lì è protetto vieni giù che il maestro mi ha detto che non posso salire bella ok ok torno indietro allora a questo punto è stato incredibile grazie solo anche per premiare la chat che ci tiene a un completismo persino microscopico e lo apprezzo voglio secondarla senza cadere vittima di volerti dare il finale senza null'altro ti faccio fare una cosina sono stati molto molto tenaci a convincermi e gg ragazzi sono d'accordo con voi va bene ok ti manca in effetti un premio per quello che hai fatto alla Ringed City hai ucciso Shira la porta della sua stanza adesso è aperta ok vai pure non volete neanche voi che finisca Dark Souls eh le trovate tutte le scuse bravi ultimo cumulo dei rifiuti devo fare no la città d'anelli fossa comune no anelli interni anelli di mura interne anello di mura interne sai do dai le cenerie all'ancella così dura di più scendi giù eh di qua sì ah già è vero che devo togliere la chat di nuovo ah sì ma poi dopo il backup la togli vi avevo rimessi perché appunto c'era la storia del backup eccoci ah ok c'è tutta quanta la mazza che rasciata verso l'oggetto mio 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 esatto ah no ok pensavo dovessi andare via da qui mi ero cacato allora corona d'argento ok corona d'argento di fattura squisita indossata da Shira cavaliere al servizio di Filianor e decorata con una perla ricavata da una conchiglia mangiauomini le conchiglie mangiauomini erano quelle di S1 è una sorta di conferma ancora più forte che sia la figlia di Sith eh sì Shira crocifisse il re pazzo e lo portò in un luogo oscuro questa è la stessa cosa dell'arma sì dove rimase in attesa anche se nessuno poteva vederla indossava ancora i suoi abiti da cerimonia vediamo un po' se trovo anche il vestello quale sarà mica la vedo allora aspettate eh facciamo le cose eccola qua Corazza di Shira cavaliere al servizio di Filianor si tratta di un raro modello femminile creato in tempi antichi lo scialle d'oro in tessuto si adagia su un pettorale d'argento e insieme alla gonna verde dona alla corazza un'eleganza sottile e pur raffinata che ben si adatta all'ancella di una principessa nelle cui vene scorre sangue reale beh dai direi che ci vogliono proprio per far capire che è figlia di Sith in tutti i modi fanno parte degli abiti da cavaliere di Shira quindi niente qui per i guanti ci dicono semplicemente che sono tessuti di cuoio in tessuti di cuoio e decorate con bottoni d'ottone mentre le legs stessa cosa ok e sai che stavolta non la chat ma questo detour grazie è venuto grazie alla chat mi ha fatto venire in mente una cosa che invece ci tenevo tu vedessi e stava sfuggendomi usa un osso del ritorno questa è l'ultima chicca della serata prima del finale mi fa riderissimo sta cosa nel prossimo luogo eh no aspetta in realtà non finiamo mai come le maschere di Rupen esatto dimmi tutto teletrasportati all'inizio del cumulo di rifiuti quindi il cumulo di rifiuti sì vabbè allora rimetto la chat ultima chicca come gli ultimi 3 di Sido sì è vero ma chi è che ha arruttato così esatto esci fuori è morta lei ceneri di una donna anziana ma chi è che urlava così guarda davanti a te in alto è diventato un angelo esattamente e infatti quell'angelo non ti è ostile questa è una chicca chissà dove è il suo bozzolo di carne eh esatto esatto chissà dove è il suo bozzolo di carne esatto è diventata un angelo leggo le ceneri vai cenere oscura dell'anziana donna curva sotto la sua pietra permette all'ancella del santuario di creare nuovi oggetti ogni cosa decrepita e dimenticata giunge infine aggiacere ai piedi del grande cumulo di rifiuti in passato questa anziana donna era stata la balia di un principe è infatti all'anello di Lothric quindi era la balia di Lothric sì è vero non mi vedo lo sprite l'ho visto l'anello ma non avevo notato guarda bene queste sono quelle chicche importanti da Dark Souls è questo qui è questo qua bravissimo bravissimo anzi no è questo sì è quello è l'anello della preghiera esatto esatto cioè di Lorian se non di Lothric di Lorian il fratello maggiore perché Emma era quello di Lothric è vero giusto no non c'è il bozzolo di carne possiamo tornare ok ok il backupino mi devi spiegare cosa devo fare allora torno al al altare della fiamma estinta esatto poi cosa faccio chiudo il gioco allora chiudi il gioco io per ora ti tolgo vabbè tanto non importa non vedrò il pip ma poi riapparirà esci dal gioco normalmente attento ok perfetto ho fatto il quick exit no password any percent yeah ok adesso chiudi il gioco tolgo qui ma non ho software in anteprima sulla playstation vero no in caso non si sa mai e ho tolto tutto ok adesso start carica scarica dati salvati e devo fare tasto tasto start carica carica esatto non scarica ma carica carica gli ultimi caricati sono di oggi in realtà quindi bella cioè o meglio gli ultimi salvati nella console sono quelli di oggi quindi tutto a posto carica tutti qui ci siamo accidenti ci siamo si vuoi solverascrivere i dati nel cloud si non c'è backup automatico ragazzi l'ultimo backup era tipo di boh il backup automatico c'è saido ma non preoccuparti perché avviene quando chiudi il gioco durante la notte ah ok bella poggers quindi se vuoi mantenere il gioco non finito anche domani lo disattiviamo altrimenti ragazzi non ho nulla in antepremo niente smettetela di insinuare cosa buonasera a tutti amici video spettatori esatto qui è Sidonia e siamo qui a fare adesso succede ragazzi un twist fra stacca il mood Sidra trasporta corri in arena everyone smash uccide il boss con la rampa forte non si fa domande salta il filmato finale e stacca la live sarebbe assurdo dopo un anno dopo un anno in speculazione e chiudo dicendo che merda vi odio questo fa schifo oh santo scena ok bene allora esci lo visito tutto a chi crederanno a voi o al loro eroe siamo in tutto 12.500 viewers beh ragazzi a buon rendere questo in effetti si può dire sì a buon rendere a buon rendere voglio proprio vedere che succede con leggende del den ring allora togli la chat giusto giusto grazie di avermelo ricordato tolta togli un momento il mio pip perché voglio essere assolutamente certo che una cosa sia totalmente spot on allora ti devo mettere full screen per un attimo ok ok non ci sei più ok non ci sono più fammi controllare ok ok puoi rimettermi ah ok è stato rapido ok dirigiti alla fornace della prima fiamma dirigiti però se vuoi guardarti in giro prima per un'ultima volta e poi era finalmente non da scappa scappa è il momento vi farò ridere con questa immagine però è così è come se fosse tutto in lavatrice guardate si no è vero si è completamente mischiato tutto su tutto sono convinto che se continuassimo ad attendere sarebbe graficamente non dissimile dal mondo eterno pre fiamma con la differenza che non potrebbe mai più essere eterno sarebbe semplicemente un mondo vuoto un mondo vuoto oscuro putrido sport bravo si andiamo andiamo allora per prima cosa appare scritto fornace della prima fiamma prima che tu possa fare i tuoi primi passi io metterò il mio segno bianco a terra lo facciamo insieme sì ok non me lo aspettavo è così difficile cioè dobbiamo farlo insieme il boss finale hai già la spada di Midir? sì l'ho già messa ci siamo ci stanno per pagare ma sai bene che ormai non mi interessa più vero? il mondo sarà quello che riceverai in pagamento F puoi dirlo forte ma devi vincerla quest'ultima scommessa devi vincerla cammina andiamo che fai? lascio anime non mi servono più ci hanno invasi ma sono abbastanza sicuro che questo ragazzo è qui per proteggere il nostro finale guarda è la tua destra sono proprio quelle colonne sciolte sono proprio loro sì sì le avevo già viste c'è qualcuno qui tenue ombra di Londor? sono colori quali stanno osservando il lord of hollos sì vogliono che la profezia si compia vuoi che lo evochi? no ok allora adesso seguimi un momento come no vai in strada Francesco ti chiedo una cosa Cecil è lì a fare da protettore dell'online è un assunto del finale diciamo quello che ti chiedo dinanzi a queste colonne dinanzi a quello che è l'entrata della fornace della prima fiamma è scalare quest'ultima parte di scalinata antica ma fermarti poco prima di queste radici queste spesse radici devo guardare Cecil? no una volta che sei arrivato in cima a quella radice sì quella è l'eclisse quella regia e racconto similmente a come il santuario del fuoco e del suo vincolo ti è apparso oltre le colline del cimitero della cenere qui ti appare il sole che piange il segno scuro del mondo la luce che si spegne ma certo fai ancora un po' avanti raggiungi il bordo di quella radice e poi voltati F indietro? sì fermati F dimmi devo parlarti ok che paziente che sei questo posto io credo di conoscerlo e credo di capire che stai per andare incontro a qualcosa contro la quale avrai bisogno di giocare insieme sarà una scommessa di gruppo devo raccontarti una storia ok P ma questo posto lo conosciamo per forza ci abbiamo vincolato tutti qui no? sì ci abbiamo vincolato tutti ma vedi F è proprio perché tu vincolasti la fiamma in questo luogo per quanto diverso fosse allora che ho deciso di suonare la piccola campana di quel cimitero Lothric era in rovina la grande campana ha risvegliato il Lord of Cinder e per qualche ragione che forse qualcuno di più saggi di me avrebbe potuto indovinare ha svegliato anche me non voi normali Unkindled io sono un Unkindled come te ma quando provai a vincolare la fiamma ero ai tempi di Lordran e lo feci cercando di anticipare qualcosa che un personaggio che hai letto in un certo libro ha ispirato per il futuro so di chi parli Firenze non decise semplicemente di abbandonare il fuoco non si accontentò e quelle radici crearono la chiesa nera io in un tempo molto vicino al suo non contento di quello che era l'eredità del vincolo già allora ma convinto della bontà della fiamma cercai di portarla a me un'usurpazione senza buchi oscuri il risultato fu terribile ma non esisteva Lothric Tu hai già provato a fare quello che voleva la chiesa nera? senza oscurità cercai di strappare la fiamma al suo nido per portarla con me ma falli brutalmente sei morto? ero già morto ma quello che accadde fu in qualche modo diventare un perdente ibrido tra un kindle e lord of cinder io ho una parte della prima fiamma in me e sta pulsando come non l'ha mai fatto prima d'ora non l'ha mai fatto neanche quando sono tornato alle fornaci a osservare altri a osservare ciò che hai letto nell'anima oscura perché l'ho scritta io e non ho idea del come io l'abbia potuta perdere e ritrovarla in quella tomba ho scelto te per giocare un'altra partita perché la chiesa nera si era sviluppata perché l'otrica era caduta ma sei stato molto più di un compagno e molto più di uno sfidante molto più di un mercenario lord of allos il fatto è che quello che sto per fare sarà sia un richiamo che un insulto a lord gwyn quello che farò con te prima di questa boss fight sarà separare e dividere la mia anima con te voglio che tu porti un'eredità millenaria dove io probabilmente parteciperò come spettatore ma combatteremo insieme non faremo ciò che si potrebbe chiamare ricordo eco o ciclo sia mai del passato perché vedi so perché tu vincolasti all'epoca ma c'è qualcosa esatto sì per gioco mi ricordasti molto l'impulso e l'istinto con cui io cercai di strappare la fiamma al suo nido qualcosa di estremamente capriccioso e per quanto sicuramente di selvaggio buon cuore che non ha portato a niente ma devi considerare qualcosa di cruciale per quanto ci stiamo camminando sopra adesso questa istintiva protettiva superficialità con la quale affrontiamo questa scalata non deve farti dimenticare che in questo luogo sono passati e hanno camminato a terra tutti i chosen anden tutti prescelti tutti colori quali hanno infine toccato il nido della prima fiamma colori quali per scelta per costrizione coercizione leggenda qualunque fosse la ragione per la quale quello è accaduto sono tutti passati da qui come è successa questa cosa perché sono apparsi questi segni perché me la sono cavata sono tutte persone che hanno vincolato prima di noi sì sono i ricordi gli echi la stagnazione tutti antichi lord of cinder pre lothric e dimmi un po' più pensi che io possa farcela pensi che la sola oscurità che ho in me basti come contenitore che speranze abbiamo di non fare la tua stessa fine la tua oscurità deriva da una evoluzione di ciò che è stato uno studio millenario sul rendere la fiamma anche vittima della disparità che ha causato tu non sarai solo oscurità tu sarai non puoi chiedermi ciò che non so fride ha sviluppato la fiamma nera io no fride aveva sicuramente dell'oscurità in sé ma ha fallito tu sei vicino a un'ascensione ma sul farcela o meno io non voglio scommettere è per questo che ti lascio quella parte di me che io raccolsi tempo dietro vieni raccoglierla vieni a prendere quello che ti spetta e andiamo insieme quindi fammi capire mi fai leggere un libro per mesi e poi non mi dai alcuna garanzia sul finale è per questo che ti lascio andare da solo va bene già aspetta aspetta quella è la tua anima sì è questa guardami è la mia vera fiamma ti offendi se ti binocolo vai a fuoco per metà però spero di non diventare come te sei orribile io spero soltanto che oltre quell'arco ci sia qualcosa di docile ma quello che pulsa nel mio petto mi dice di no combatteremo insieme vieni F affronta la tua ultima scommessa ora Francesco ti devo dire una cosa per forza le cose al di là di qualunque interpretazione che le parole possano trasmettere ti ascolto quello ed è purtroppo un micro spoiler di ciò che farò io non di Dark Souls 3 ma è importante che tu possa visualizzarlo senza che io lo descriva in un momento in cui starai combattendo perché non posso visualizzarlo in altro modo ora immaginandoti comunque ti ricordi l'incantesimo piromattico combustione immolazione in Dark Souls 2 che ti faceva prendere fuoco sì immaginati comunque che ti possa fondamentalmente come sia comunque presentato in quanto phalanx del racconto si presenti a prendere fuoco ma qualunque cosa tu stia affrontando perché sei blind qualunque creatura entità boss si trovi oltre questo luogo quando vedrai e devi immaginarti io però la nebbia è gameplay devo superare una nebbia di multiplayer ma immaginando che effettivamente si vada insieme contemporaneamente devi immaginare questo non ti dirò nient'altro il resto sarà silenzio tu che fai il tuo try che ti godi la boss ok quindi tu stai camminando con me io sto camminando con te supero l'arco con te ci metterò un pochino di più corriamo ci muoviamo contro la boss in base a come tu interpreti F con questa comunque adesso concretizzata non soltanto collaborazione gioco ma anche amicizia dei personaggi per la prima volta nella nostra trilogia si va insieme al boss finale e non c'è separazione o scontro ma quando piccolo spoiler vedrai P in gameplay morire con un sol colpo della boss fight finale quello che devo immaginare di On non è la morte di P come personaggio che si incenerisce bensì in maniera però a lui inaspettata chiaramente e a te forse ancora di più vederlo assorbito dalla boss fight ok ok tutto qua il resto e tu mi seguirai adesso a piedi o non puoi per la nebbia no io purtroppo ti farò vedere il personaggio morire non si può fare altro ma ti 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 raggiungerò e poi andiamo il resto sta a te ti rievoco sostanzialmente giusto? ho capito bene? quello no 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 una volta che vedrai ti morire il gioco tuo ok perché P viene perché P scompare d'accordo assorbito dalla boss fight eh sì ok ora rientra nel mood questa è la tua boss fight finale sei da solo io non ci sono più c'è soltanto P ok posso andare avanti? ora io non ci sono più ehi P dimmi cosa vedi? pensavo che non abbiamo mai sviluppato come i grandi eroi una mossa finale combinata ma vedi se tu hai scritto l'anima oscura è perché abbiamo sempre costantemente fatto una mossa combinata lo siamo noi grazie mi piace F vedo cosa c'è un sacco di spade e una figura credo sia antropomorfa se fosse semplicemente il precedente vincolatore dovrebbe essere vuoto pericolosissimo ma e invece è seduto come una persona ancora dotata di senno com'è possibile? non ho risposte a questo cosa sta facendo lì? perché? oh ah sta aspettando è incredibilmente calmo non ci sta neanche attaccando P sembra disarmato che cosa significa? P dimmi chi risponde dov'è rimasta l'altra parte della fiamma che non hai dentro? beh è nel suo nido è davanti a te è nei braceri degli altri lord of cinder che sono stati che sono stati strappati al vincolo da Lothric quella cosa mi fa paura anima dei tizzoni sta usando sta usando la lancia la spada del vincolo l'anima dei tizzoni è l'anima del fuoco devo reagire Itedaka Miyazaki si pentì di ciò che fece alla prima boss fight di Dark Souls 1 come finale si è corretto non posso perriarlo vero? questa è la resistenza del fuoco cos'è questo? qui non ci sei più ma dimmi che è lui come hai usato? dimmi che è lui ti prego è Queen che ha deciso cosa sia il giusto Queen per tutto questo tempo ah ho letto di te so che sapevi usare quella bella si si sei tu sai fare tutte quelle cose vero lo volevi veramente tanto questo fuoco noi l'abbiamo già fatta questa sfida è che è Che dice tutto? 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 Ah, ho il cuore a mille Quello è il giocatore Quello è il giocatore Si è sentito quello che ti ho messo sul microfono durante la fight come voce? Che non so se lo hanno sentito loro perché la musica era particolarmente alta E allora... E' lui? E' lui? E' lui? Ciò che non mi è chiaro però è... Ecco... Quando è arrivato qui? E' uno spazio? E' uno spazio? Il secondo è... E' questo secondo è tutte le persone collegate che hanno vincolato e molte e molte di più in inglese si chiama soul of cinder e quindi è la persistenza del fuoco che credo viva in ognuno di coloro che ha desiderato questo è la volontà di Gwyn ormai personificata se così potremmo definirla in giapponese invece questa è una cosa che ti piacerà è incarnazione dei re noi siamo i re però Wendrick ce l'ha insegnato ne sono convinto non so quale sia la tua interpretazione quella della community ma ne sono convinto è almeno Sabaku II e ok se tu mi dici giustamente non è uno stregone è tutti gli altri giocatori messi insieme che resistono sentono che io voglio strappare la fiamma esattamente io ti dissi che era curioso eccitante eccitante elettrizzante sentirti parlare con quel desiderio e quella forza di Sabaku II dov'è? se si vedrà mai? nonostante fosse un titolo in cui fosse effettivamente difficile impossibile una concretizzazione della tua idea ma ti dissi guarda che rimarrai sorpreso non abbandonare quella scintilla perché potrebbe accendersi creare una fiamma e guarda un po' lo rifacciamo con la vita doppia? no ora lo combatti con l'abba più 3 più a vita normale ok vai mi devo braciare? hai le braci per farlo usala come cura se vuoi perché prima mi sa che non ero bracciato eri bracciato per forza perché mi avevo evocato però puoi usarla come cura ok o come potenziamento iniziale oh no oh no mi state forse dicendo che per dare un futuro a questo mondo devo battere ognuna di quelle singole pagine devo battere ognuno di voi si casta persino forza interiore io ho riconosciuto in quel momento quando ho visto forza interiore ho pensato a te per un attimo ho pensato che tu castassi forza interiore di continuo su DS1 per questo momento ha 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 comunque è un boss di Kingdom Hearts non è un boss di Dark Souls è bellissimo eh sì la lancia è molto pericolosa ma l'incantatore l'anello dell'estus secondo me farebbe un gran lavoro qui con te devo solo stare concentrato sì non credo proprio ah ti stai curando ancora bastardo si è cassato rigenerazione pensavo fosse una cura singola oh cos'era oddio cosa mi ha fatto una finta sì sì ti piaceva perriare Gwyn in Dark Souls 1 eh è questo pensavo fosse il momento del reposter esatto esatto lo era lo era solo che non era tanto una finta quanto il fatto che lui è superiore a tutto anche al reposto quindi ti ha perriato il reposte che figata così sai quale altra è una figata ahà che ho già vinto ha no gli attacchi ritardati bella ho già vissuto tutto questo esatto questo è il try lo so già ho già ho ho No Smart No, è finito Questo non l'avevo visto Bellissimo E c'è il piano Sono le note del piano di Gwyn Le riconosco Di nuovo, ancora Cosa hai fatto? Hai pescato l'ultima Vita della fiamma E hai pescato infine anche Gwyn Col calcetto Da presa Sembra che ci metterò ancora del tempo Sapevo che questo era il try che mi avrebbe dato la vittoria Ma non sapevo della fase 2 Allora, intanto Ora Puoi anche fare la katana più 5 L'importante era farti combattere la fase 1 In maniera completa Che tu vedessi i suoi attacchi, le sue forme La sua capacità di trasformazione Dici? Secondo te non ce la faccio con questa? Certo che ce la fai Ma ora hai il permesso di potenziarti Perché non ti andrà a sminuire il combat E Hai visto bene Esattamente come direbbe Gray Fox In il contesto Di una Volpe che diventa più pericolosa Di uno sciacallo Quando è in pericolo di vita La fiamma Quasi sconfitta O il suo guardiano Potremmo dire Ritrova la paura E va a pescare Gwyn Colui che per primo che la paura L'ha vissuta Infatti fa anche la presa È esattamente lui Che bella boss fai No No Che bella Io avevo detto di farsi La katana più 5 Non di prendere la ucci della morte Però va bene, va bene Gliel'avrei fatta usare per i vari finali Ma ci sta, ci sta Ora deve combattere la vera boss fight Oh Oh Ah, non conosco niente di questa fase Eh, no Qualcosa sì Qualcosa sì È Queen, però Non me la ricordo L'ubriaca perché è così simile ma anche diversa Esatto Che ricordi Immaginavo ma Ho solo intuito No Ora comincia la boss fight Ci sei Che anelli hai? Vediamo un po' Secondo me si possono Migliorare gli anelli Dici? Sì vediamo un po' Catena del prigioniero Forse la catena posso toglierla Prendo più danni La catena puoi toglierla Ma è comunque un buff molto buono Agli HP e tutto il resto Però puoi togliere il calabrone E mettercela nel Per esempio quello delle Esatto Quello delle Estus Che dici? Assolutamente È quello che ti volevo consigliare Esatto Che bella fight Fasa 2 non è semplice No Per niente Per questo mi hai dato 30 abbracci Dove sto andando? Ah no Dalla parte giusta Beh una cosa che puoi fare È sederti Al fallo Che trovi qui Così parti direttamente da qua Perfetto Fasa 2 è tosta Sì Anche perché non è perriabile Esatto No no Questo è anche Miyazaki Che ti dice Ti è sembrato facile Gwyn in Dark Souls Beh lo era Obiettivamente anche quando abbiamo fatto DS1 Quanto ci abbiamo messo Sì no Gwyn è decimato dai perri Quanto ci abbiamo messo Eh troppo Non è quel try vero Eh invece mi sa proprio di sì No no con l'anello dell'Estos Vedrai che È bellissimo che usi Sì In tutti i modi Quella cazzo di lancia Cioè quella spada Del vincolo La fa diventare qualunque cosa Ed è praticamente la boss fight Con più moveset di sempre Eh sì perché Ha vari moveset Di vari vincolatori Però mi ricredo Non era il piano In questa fight L'ho avverto abbastanza bene Già Lui si è semplicemente Creato ora Perché la fiamma Stava finendo Per come la vedo io Sì Questo essere È venuto al mondo Alla fine di tutto Perché è la voce Di tutti quelli Che in chat Mi scrivevano Quanto fosse giusto Il vincolo Non mi devo distrarre però L'incantatore Mi dà un botto fastidio Sì Mi ha ubriacato in questo try Mi ha rotto di botte Sono a 6 Estus in fase 1 Ah, in caso Hai un osso del ritorno infinito Durante mid fight lo posso fare? Devi essere un po' Sleet of hand, però sì Vabbè, ci provo Prova Devo fare un po' di Sto provato Perché mi bufferà i roll? Eh, quello è Dark Souls E' un'altra cosa E' un'altra cosa E' un'altra cosa E' un'altra cosa Il mondo deve roberto Grazie a tutti. 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 Ma poi hai visto con che clash? È stato bellissimo il finale. Io ho detto o arriva prima il mio colpo o il suo. Se lo riportate al rallentatore stiamo attaccando tutti e due sull'ultimo colpo. Che figata. Allora... Allora. Io credo questo. Cominciamo a parlare. Ti darai tu la tua interpretazione. Vai. Io credo che alla fine di tutto il fuoco si ti ha ovviamente spegnendo, ma avverte la mia violenza. La mia voglia di... La mia voglia di portarlo a conclusione. Quindi forse la rande la chiesa nera è l'unica che ti dà un vero significato a questa ultima boss fight. Tu vuoi strappare il fuoco dalla culla. Vuoi portarlo con te, vuoi fare quello che P non ha mai fatto, non è riuscito a fare. Quindi P combatte con me ma viene assorbito. Come tutti gli altri. Quindi in realtà P combatte contro di me. Infine sì. Lo fai involontariamente, non è che vuole farmi del male. Anzi P mi ha voluto guidare qui. Però... Poi... Appunto tu entri con la voglia di strappare il fuoco. E quindi questo essere seduto si alza. Si alza, estrae la spada del vincolo e ti combatte. Ti combatte perché è l'ultimo grido, l'ultimo canto del cigno di tutte le persone che in questi anni, in questi millenni hanno voluto vincolare, hanno voluto dare del tempo in più all'uomo e vogliono resistere. Un'ultima volta con tutta l'esperienza che hanno portato. Sono la campana finale. La campana che prende tutti i Lord of Cinder. E coloro che sono, mi permetto di dire, molto più forti di Aldrich, di Jorm. Beh, magari queste ultime entità hanno avuto una forza particolare, però alla fine sono stati comunque strappati al vincolo, mentre stavano ancora bruciando, perdendo ciò che erano. Queste invece erano le anime nella loro forma più pura. Tu hai effettivamente combattuto Soul of Cinder e la tua interpretazione è esatta. È una delle boss fight con l'interpretazione e la lore più semplici, ma contemporaneamente bella. Cioè, è qualcosa che tra l'altro quando la vedi arrivare al limite, sconfitta e tirar fuori Lord Gwynn, cioè, non è un throwback fanservice piatto o superficiale. È qualcosa che racchiude tutto il percorso fatto e lo compie con questo scontro finale, che ti richiama quelle note e ti fa capire esattamente, davvero, cosa stai combattendo. Alla fine hai davvero trovato il giocatore, ma non solo, anche il suo antagonista. Anche Gwynn, certo. Sì, nell'ultimo davvero canto del cigno la fiamma cerca di rievocare persino lui. E poi... E poi invece non va, la prendo io quest'anima. Io adesso ho dentro tutta la storia che ha letto F dentro l'anima oscura di P. Ed è vero, avete ragione. Ovviamente ho tirato fuori di nuovo la chat, posso, sì? Ora, ormai sì, ormai sì. Stanno dicendo che è la copertina, è vero? Sì, sì, è difficile vederlo senza averlo comprato fisico, ma sì. No, no, la notai subito perché era nel PSN, te lo ricordi? È la prima cosa che commentai, me la ricordo ancora, che c'era questo tizio. Però pensavo che fosse un generico unkindled. Beh, di certo non pensi che sia il boss finale, ecco. Quindi praticamente il boss di Alden Ring è un tizio inginocchiato? Sì, esatto. Chi è il boss? Secondo voi il boss di Alden Ring è quello, della copertina? Eh, mi sa stavolta di no. No, perché ormai l'ha già fatto qui. Esatto, e poi diciamo che comunque quello che accade qui come simbolo, secondo me, incredibile, è che lui ti usa la spada del falò. Cioè, dopo tutto ti usa la spada del falò. In realtà è anche un po' speculare a Gundyr. Sì, sì, certo, certo. Inizia e finisce in quel modo. Sono gli anelli spezzati, ok, ok ragazzi, grazie. Me la posso leggere, direi di sì. È il momento. Anima dei signori, un'anima corrotta, entrisa di potere. Usala per acquisire numerose anime o trasferiscila per estrarne la vera forza. Dai tempi di Gwyn, il primo signore dei tizzoni, molti nobili signori hanno vincolato la prima fiamma e le loro stesse anime si sono manifestate in sua difesa. Beh, direi che se non avessimo dato la giusta interpretazione prima non avremmo non potuto farlo adesso. Esatto, ti toglie ogni dubbio. Ma con quanta vita lo stai facendo tu? Eh, io dovevo essere shottato. Io dovevo essere shottato, sono in un mare di merda. Io dovevo fare il fico e adesso l'ho presa in culo. Però... Warfit. Warfit, esatto, esatto. Assolutamente Warfit. Ragazzi, ci siamo. Sì. Ci siamo. Ma quindi cos'hai fatto? Hai rispeccato da Rosaria. Certo. È quello che ti è apparsa la fiamma addosso. Esatto. Non ti distraggo, scusami. No, guarda, tranquillo. Qui è con l'arma lenta, poi... No, non shottarmi. Ma shanmi invito. Sono vivo. I am live. Aspetta, non sono vivo. Non ho neanche... Non ho neanche... Non ho l'audio. Oh no. Ah. Ah, per fortuna ho fatto il roll del titolo giusto. Sai che mi sa che non ti vedo più? Oh no. No, 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 no. Ok, ok. Ok. Ah, non hai l'audio? Ok. No, perché no, perché stavo sentendo... Ok, ok. Allora, se vuoi mutami se ti do fastidio. No, no, ma che mi scherzi? No, no, è piacevolissimo. Solo che senza i call out del suono... È un po' uninfamata. Dai, un po' che un po' che... Sono così fratto. No! Sono vivo! Sono vivo, ok. Sono vivo, sono vivo, sono vivo. Sono vivo. Oh no, non è il momento di fare questo, non è il momento di fare questo! Ok. No! No, sono morto! Ah, va bene. Allora, aspetta, ti faccio vedere una cosa a questo punto. Ok. Ora ti faccio... Allora, aspetta, non pensavo che te l'avrei fatta vedere. Te la faccio vedere. Non potrò cambiare... Non potrò cambiare, purtroppo, i miei HP, eh. Però... Ti faccio vedere una cosa. Dove sei, Martello? Allora. Tornando al mio vecchio setup, per quel che vale, comunque le percentuali di danno hanno un loro perché. Dov'è, dov'è l'armatura di Milfoot? Eccola. Che emozione questo finale comunque. Esatto. Sono troppo contento. Ha funzionato tutto. Ok. Allora. E tra poco devo raccontarvi qualcosa, ma... Tra poco. Adesso lo buttiamo giù. Maledetto. Però ti faccio vedere una cosa divertente. Cosa fai? La super hyper mode? No, no, no. La super hyper mode non la farò. Però ti faccio vedere... Da solo... Una build forte, fisica, cosa può fare a sto gioco? Hyper armor, attivati! Attivati, ti dico! Ok, ragazzi. Per i veterani qua in chat, è tipo la super armor di... Dimos, sì. Ah, no, 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 io parlavo proprio di Smash. Sì, ok, ok. L'ho vista. Quella era una singola martellata. Madonna. Poi ti faccio vedere che si può fare, eh. Faccio il baffettino. Lo carico un po'. E se riesco a trovare la finestra giusta. Non con quest'arma, ma ok. Come ti è andata in blinding a questo loco qua? Ah, potrai... Vederlo. Anzi, anzi. È abbastanza iconica la mia reazione. Alle diverse fasi della comprensione. Eh, beh, certo. Beh, ricordi l'equilibrio di Daxos 1. Drago, scusami. Dai, no, ma tranquillo. Voglio solo... Fargli solo gli R2. È una questione di... Enorme celosia dell'attack rate. Posso? No, si attiva solo troppo tardi la vera arma. Dai, 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 dai. Tiè! Vabbè, Gwyn, vieni, dai. Sono avvelenato. È vivo ancora! Eh, sì. Hai fatto l'F. Ah, no, no. Ah, ah! Cosa cazzo? Ma la sapevate questa, ragazzi? C'è anche uno di vita? Fasa. Sì. Ma che cavolo? In realtà ho avuto l'impressione più volte che fasciasse uno di vita, anche durante i miei trai adesso. Ah, non ci ho mai fatto caso. Ah, la sapevo anche io? Ok. Ah, scusate. Tocca a me l'hai per armi, lo dico. Eh, sì, vabbè. Sì, ti piacerebbe. Fammi l'attacco lento. Tipo questo. Tocca a me! Eh, dai, fammi fare l'attacco caricato. Sami! Se mi prende, ero morto. Eh, sì. Vabbè, te lo faccio così, dai. Visto? Ti ho tolto un terzo di vita, io ho tolto. Sì, sì. Praticamente giocate a rissa nel bar. Cioè, tre colpi. Madonna mia. Madonna mia. No! Certo, è incredibile come dopo una blind si possa rompere un gioco. Anche il migliore. E io non sto usando neanche buff, eh. Non ho buff di nessun tipo qua. Oltre a un personaggio indebolito apposta. Sono morto. Fuck. No, forse no. Forse non mi uccide. Quella è true. Cioè, quella è una true combo? Sì, sì, sì. Quella è praticamente... Guarda, vedi la come presa. Ok, è facile. È una presa. Praticamente se ti prende, fai prendi i danni e così via. Ma... Ma... Allora... Tu adesso hai... Dinanzi a te... Anche... I finali. Certo. Allora. Allora. Io ho già deciso qual è il mio finale. Beh, penso che sia stata una decisione... Presa tanto tempo fa. Sofferta, ma presa tanto tempo fa. Cioè, si è... Concretizzata oggi. Ha cominciato a vacillare in realtà nelle ultime live. Ma... Ora... Ora ci sono. Allora. Ah, puoi anche evocare la guardiana del fuoco che invece è colei che te lo farebbe spegnere. Esatto. E per la chiesa nera invece... Allora. Per la chiesa nera... Devo uscire forse. Ormai... Sei in una posizione diversa, vedi? Tu... Con la tua oscurità... Non puoi più vincolare il fuoco. Anche se volessi, anche se provassi. Anche se tu volessi. Non puoi più vincolarlo. Il ruolo del Lord of Hollows... È un nuovo vincolo. È il tuo nuovo vincolo. È qualcosa... Che Lordran... Drangleic... Lothric... Holafis... Nessun luogo ha mai visto prima. È vero. Quindi se io vincolassi il fuoco, vincolerei nel senso di strapparlo, come ha provato a fare Phalanx. Sì. Ora... Ti faccio prima... Una ipotesi. Che devi... Cioè una... Ti do un'ultima scelta. Visto che abbiamo comunque... Ma volendo anche i ragazzi per la coppa, eccetera... Devi decidere se fare un altro finale backup adesso... Oppure se per gli altri finali schioppare la bestia ogni volta. Oh mio Dio, no. Stiamo fino a Natale. Backup. Shbackuppa. Allora. Non ho questa esperienza tale da dirvi. No, no, ma... Backuppa, backuppa. Tutte le volte. Allora, esco. Cassandro avrebbe fatto il boss tre volte, ma ne sono consapevole. Ma io non sono Cassandro. Allora. Sono diventato saggio dopo tre giochi. Esatto, ragazzi. Allora. Home. Chiudi. Carica. Devo sempre ricaricare i dati, cioè caricarli sul cloud. Sì. Ok, fatto. Cassandro avrebbe rifatto il boss con l'arco, è vero. Avete ragione. Ok, ho backuppato. Ah, ragazzi. Eh sì. Eh già. Quando beccheremo il mio finale, vi racconterò una storia, ma visto che non so bene cosa devo fare, aspetto l'indicazione del maestro e credo che quindi per primo faremo quello che non voglio fare, dunque la guardiana. La cosa, in realtà, secondo me è opposta. Ok. Non si tratta di lasciare come ultima immagine quella canonica. Si tratta di farti vivere la tua esperienza e poi fare il trivia. Quindi sì, sentiti libero di prendere il tuo finale. Adesso? Sì. Perché così ne puoi parlare quel pelo più fresco che conta. Ok. Ok. E allora... Ci sei. Prima... Prima del finale... racconterò una storia. Oh! La fine... della storia di F. Siamo d'accordo. E mi metterò un bel sottofondo. Che non può che essere questo, in questa stanza. Metterò un sottofondo anch'io. Soltanto i più attenti lo riconosceranno. Lo riconosceranno. Vediamo un po'. F si siede davanti a questo falò. E... Comincia con le mani... A muovere la cenere davanti a lui. Perché... Scorge un oggetto. Lo recupera. Più o meno in prossimità di dove purtroppo P. Ha perso la vita, venendo assorbito dal... Dall'anima dei tizioni. F la ritrova. L'anima oscura. L'ultimo ricordo... Di quello che credo sia stato l'unico amico nella sua vita, P. Un uomo che... Ha creduto in lui. Un uomo che, al contrario di tanti, Non ha voluto soverchiare, ma ha lasciato ereditare. Un po' come il maestro con Cydonia. P. Ha svolto quell'importante ruolo del non protagonista. Un ruolo... Troppo spesso. So easily forgotten, come direbbe qualcuno. P. Ha lasciato che F si formasse. E che continuasse ciò che a lui aveva cominciato, ma che non poteva più portare avanti. Quindi, anche se P è morto... O comunque, se P non c'è più perché è morto in un mondo in cui le cose muoiono, Anche quando sono decedute, è difficile da usare come termine. Ma comunque, P è qui con noi. Se F si concentra può vedere la sua anima, seduta con il suo gigantesco martello. F. Non sa. E non ha idea di che cosa succederà una volta che proverà a strappare la fiamma. Lui si vuole fidare del suo amico P. Ma proprio perché lo fa, in ultimo non può trovare la certezza che vorrebbe. P non gli ha detto, ce la farai. P non lo ha lasciato con frasi melenzi, credi in te stesso. P è stato onesto fino in fondo. Io... Non posso sapere... Quello che non ho visto. E quindi F. Prende un'ultima decisione. Non tanto per salvare questo mondo. Ma... Per salvare la storia di P. Per fare in modo che se qualcosa dovesse andare storto, prima o poi, in questo mondo dove il tempo è così strano, distorto, piegato, qualcuno, forse lui stesso, forse uno di voi che è qui in ascolto, possa fare di meglio. Forse non si può comprare del tempo di più per gli uomini, ma si può loro insegnare la storia. E lasciare che quel tempo sia guidato il più possibile da uomini saggi come P. E tutti gli altri vincolatori, e non che hanno guidato F. In questo gameplay, e Sidonia. In questo anno di contenuto. è un'unica persona di cui si fida, quindi F decide di prendere questo libro e di darlo all'unica persona di cui si fida, sapendo che dandola a quest'uomo la storia sarà in buone mani e verrà tramandata in qualche modo. E mi fa ridere la chat perché scrive Patches, ma non è Patches. fruttando ormai l'inconsistenza del tempo e la possibilità di fare l'impossibile. F invade qualcuno. Vi chiedo di immaginarvelo perché non posso farlo. se stesso. Se seguite la serie da un po' ricorderete che un vecchio uomo malconcio ha invaso F per dar lui l'anima oscura. Sapete anche che una volta invasi e messi KO non si muore. Si ritorna da dove siamo venuti. Ho deciso questa cosa ispirato da un vecchio evento che non era assolutamente previsto ma che decido oggi di rendere canonico benché sia creazione inconsapevole nostra e della community. F invade se stesso si concede il libro sapendo che prima o poi lui ha quel libro ci crederà o che quantomeno lo proteggerà. Ma poi e vi chiedo di riguardare tutta la nostra trilogia F decide di togliersi uno sfizio di invadere uno dei più grandi eroi credo che qualcuno se lo ricordi. F invade Firenze è una cosa che è davvero successa. lo sfida a duello e lo batte e poi torna indietro qui rinvigorito avendo vinto avendo battuto persino Firenze sente che forse è possibile sente che forse quella fiamma può entrare dentro di lui. vi assicuro che c'è una persona chiamata F che mi ha invaso ad Anor Londo prima che andassi da Ornstein. Ho scelto il nome F fin dall'inizio della run sperando un giorno di poter fare la nomurata come si suol dire e spiegare chi fosse quell'F adesso ho deciso chi è F è l'equilibrio e soprattutto in questa metanarrazione che adoro tanto vorrei che sapeste che F vive insieme a P in ognuno di questi ricaricamenti delle nostre dirette F e P sono la certezza che tutta la trilogia potrà essere vista e raccontata all'infinito perché noi siamo riusciti a vincolare la storia attraverso attraverso queste live attraverso queste dirette attraverso questi scontri ed era la cosa più importante da fare spero che il nuovo mondo sia interessante al vecchio lasciamo per sempre la possibilità ancora prima di scegliere di sapere sei d'accordo? Completamente Molto bene posso andare? Beh ti dirò visto che hai deciso di fare questa stupenda chiusura del tuo personaggio è questa forma di impreziosimento di tutto ciò che sono stati questi video e questo anno ti dico che ti ho mandato come saprai qualcosa su discord che tu hai scaricato giusto visto che quindi questa è solo una delle tante cose che dobbiamo mandare ce n'è un'altra poi che deve essermi mandata però 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 è il finale si è dato il tutto e per tutto quindi c'è una certa tradizione molto facile da dimenticare perché sottile è successa quasi per caso però non è mancata anche per il terzo capitolo quindi metti come se fosse l'opening quel file video pronto per essere visto e guardalo guardiamolo insieme ai ragazzi appena sei pronto perché ho ricevuto anche l'altro file appena adesso quindi come ok anche anche a Michele arriverà il link adesso ok sono pronto ho inserito anche il mio allora aspetta allora prima il tuo giusto allora prima voglio vedere dove arriva il file il mio link così guardiamo ah se no non c'è fretta non c'è fretta a questo punto andiamo con ordine allora allora è come ti ho detto quando sei pronto quando sei pronto facciamo 3 2 1 lo mandi quello che ti dico è non preoccupati non preoccuparti non preoccupatevi ci sono circa 7 secondi di nero all'inizio ok ok come mai semplicemente per export nulla di particolarmente pensavo fosse una cosa dovuta cioè che serviva propedeutica a qualcosa no no altrimenti non l'avrei avvisato ok quindi questa è una prima prima che io faccia qualcosa giusto cosa perdona sì 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 guardalo prima del finale dopo dopo il tuo finale narrato e raccontato in meta lei no e non solo questo è qualcosa che è per te per noi per tutti allora dammi un secondo ma certo ecco solo monitoraggio così lo attivo direttamente da qui ok solo monitoraggio attento che non lo sentiranno loro eh no 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 lo sentono anche loro in teoria ah ok quindi vai setup diversi per il routing che ho sì 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 che ho io dovrebbero sentire va bene se non lo sentite ditemelo ma dovreste sentirlo va bene ok fai pure il countdown 5 4 3 2 1 via dovresti stare attento a quella cura non porta a bene essere un lor 5 6 5 6 6 ehi jengrau il ragazzo accidenti che bello l'ho riconosciuta subito la sua mano ci ha fatto un finale una sorta di tributo finale c'era tutto c'era c'era tutto tutto ho viaggiato nel tempo nell'arco di 3 secondi wow grazie ragazzi è tutto bellissimo e fa tutto parte del messaggio che volevo passasse grazie al nostro lavoro cioè sì l'importanza dell'esegesi di dark souls che abbiamo fatto insieme del raccontarlo è molto importante raccontare le cose sapete che è la cosa che amo più fare e grazie a quest'anno ho capito che anche Michele adora questo un conto è giocare a un gioco ed è un'esperienza bellissima stupenda però un'altra è raccontarlo a me piace da morire raccontare i giochi e e e e voi avete contribuito a questo racconto attraverso altro che non solo queste bellissime cose ma anche solo commenti messaggi è stata una narrazione corale esserci sì sì che bellezza che bellezza vado allora aspetta vai aspetta che bellezza Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ti prego, faccela. Te l'ha fatta? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Esatto, non si sa. Ma ce l'ha fatta. Il sole sembrava proprio spento. Sembrava... L'ho interpretato come ormai anche lui è dentro di me. E sembrava... Esatto, esatto. Si muoveva con te. Era in te. Chissà cosa... Cosa succederà dopo. Questo non lo sapremo mai. È quello il punto. Come dicevo prima, la vera vittoria di F... Rimane la diffusione della storia stessa. Quello che accadrà dopo è importante, ma non meno. Di scoprire cosa è successo veramente alla Ringed City. La sua stessa esistenza. Filianor. Che uomo era Gwyn. Già, abbiamo regalato la verità. Tutte quelle verità dei tuoi titoli. Che bella questa musica. Si. Molto. La Nameless Song, Longing e questo finale sono meravigliose. Tra l'altro, similmente a Dark Souls 2, non ti butta subito in New Game Plus. Oh, quindi c'è qualcosa ancora? No. No, ok. Però sai, puoi viaggiare nell'arena, finire le quest se non le hai fine chest. Sei praticamente Breath of the Wild, diciamo, come tanti altri giochi. Devi rifare la finale. La fight finale. No, 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 no. La fight finale è andata. Ah, ok. Quindi sei in giro nel mondo, ma non puoi fare più niente. Ok. Esatto. Uccidere peccis. Quello che potresti fare, prima di ricaricare, è qualcosa di estremamente intrigante, che hai sempre fatto dopo uno scontro, che forse ora ti sfuggiva per l'emozione del finale. L'arma. Esatto. Oh, no. Tranquillo, tranquillo, non c'è niente. È una bella melodia, ma se hai schippato per sbaglio, no worries. Scusate ragazzi, ho fatto una cazzata. Iniziare il viaggio numero... No. No. Il viaggio 2, no. Avevo la mano appoggiata, scusatemi. Ok. Ora non sono più blind, è vero. Che palle. No. Ho tolto la bamba. Ok. Andiamo a vedere l'anima. Vai. Cosa fa? Dov'è? La prima è un miracolo molto importante. Lancia del sole, ebbè, non poteva essere altrimenti. Miracolo di Gwyn, il primo signore. Scagliano lancia di luce solare. Le storie delle battute di caccia di Gwyn, uccisore di arcidraghi, narrano della nascita dell'era del fuoco. Chiaramente. E poi dai, abbiamo lo spadone del vincolo, non può essere altrimenti, dai. Eh, infatti. Spadone del vincolo del fuoco. I signori dei tizioni vincolarono la prima fiamma. Il loro rappresentante divino brandiva questo spadone. Questa lama a spirale, ritrovata in un falò, esiste da molto prima dell'arrivo dei signori stessi. Beh, certamente. Questa spada, la prima volta ce l'ha messa Gwyn, no? Eh sì, Gwyn e i suoi alleati. Sì, beh, certo. La creazione del vincolo del fuoco è qualcosa che è estremamente antico. Padrone del vincolo del fuoco. E quindi tu, infine, alla trilogia chiusa, puoi persino brandire la spada del falò. Però posso dirti un pensiero mio proprio... Ma devi, certo. ...che è una di quelle cagate, tra mille virgolette, interpretative che non puoi decidere se sono giuste o sbagliate. Però per me è giusto. Cioè, per la mia esperienza ha senso che sia così. C'è una terza arma? Una terza... Dico in chat, c'è una... All'armatura. Eh sì, no, che sì, l'armatura. Volevo ricordarmi se era per caso dalla... Dall'ancella o meno. Vediamo un po'. Qui non vedo nessuna armatura, ragazzi. No, no, con l'anima no. Dicevo comunque... Non so come la vedi tu, ma... Dimmi. Credo che il fuoco, la fiamma... Sia un dio. Cioè... Cosa voglio dire? Sì, 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 sì. È l'unica cosa vicina all'antico, cioè... Ma è, secondo me, è il dio. Cioè, mi sono sempre chiesto se un dio avesse mai, in qualche modo, acceso un fuoco nel mondo. Ma siccome questo fuoco alla fine ha una volontà, e ti attacca, e assorbe in qualche modo tutti coloro che hanno creduto in lui, perché è un rappresentante divino, ce lo dice anche il gioco, quindi è un rappresentante di qualcos'altro. Cioè... Avverto che sia la voglia del mondo di creare la diversità. È un soffio di vita. Credo che in questo momento F sia diventato un dio, immagazzinando la fiamma dentro di sé. La fiamma è un volere divino, ed è divina essa stessa. Non proprio come l'anima del mondo, rispondendo alla chat. È più proprio come una sorta di Big Bang, ma invece di immaginarvelo com'è realmente, cioè solo scientifico, è divino, è la nascita di qualcosa di talmente divino da cambiare le regole del mondo. Tipo Gaia, bravi. Sì, 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 sì. Solo che... Non ha una volontà. È la sua stessa esistenza creare la nascita della volontà. Cioè la prima fiamma... Davvero? È una cosa che sviluppa la disparità. Non è un'entità con un senno e un desiderio. Però implicitamente chi ha fatto uso della grande anima ha condiviso la propria con essa, grazie alla disparità. Per questo è nato Soul of Cinder. Però nella fiamma secondo te c'era già la disparità? Nel concetto stesso di fiamma? O è il... Cioè, è difficile perché qui stiamo a fa' filosofia. Sì. Però la fiamma nasce, ok? Però in quanto tale la fiamma doveva già conoscere il concetto di vita. La fiamma è la... Prima ancora di diffonderlo. Sì, la fiamma è la concretizzazione, è l'incarnazione della disparità, del concetto filosofico di disparità, assolutamente. Sì, sì, sì. Capito? Per quello dico che secondo me è un potere divino che però si consuma. Non è imperituro, è semplicemente molto, molto, molto longevo e assorbe chiunque decida di offrirsi a lui. Ah, proprio fa parte della sua natura non esserlo, esatto. Esattamente. Cioè, ecco, l'antico, per me qui è la fiamma. Chissà... Conoscendo più o meno per somme linee quello che succederà in Elden Ring, ma come lo conoscete voi, ok? Quindi ovviamente non approfondisco perché non sei informato. Nella prima area e nell'introduzione. Avverto proprio che... Sì, bravissimo. Avverto che l'autore abbia proprio questa passione per raccontare questo antico volere divino che influenza tutti. In maniera, peraltro, spesso estremamente negativa. Penso all'antico di Demons, penso ora al fuoco. Il fuoco è un grande miracolo ma anche una grande disgrazia. E più o meno per quello che si è saputo di Elden Ring, sembra una storia con un incipit molto simile. Mi piace, mi piace molto questa idea del Big Bang divino che cambia tutto. Eh sì, esatto, esatto. Gli esseri che cercano di aggrapparsi disperatamente a questo potere. Sì, bravi. Blessed with Curse rende bene. Rende bene l'idea. Benedetti ma con una maledizione. Eh, ovviamente, ragazzi, di Bloodborne non posso sapere nulla, quindi... No. Non so se è applicabile anche a Bloodborne. Però, cioè, se Bloodborne parlasse comunque di una divinità antica, uno più divinità antiche, che esistendo cambiano il mondo in peggio, beh, allora sarebbe ampliabile anche a quel gioco questo discorso. Il seme del divino che entra nel non divino causa cose bellissime ma anche cose bruttissime e nella testa di Miyazaki le cose bruttissime tendono sempre a vincere o comunque a soberchiare. Sì, 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 sì. E quindi gli uomini o comunque i piccoli, coloro che divini non sono, tendono a aggrapparsi a quelle poche belle che ci sono cercando di scacciare tutte le altre. Dark Souls è un po' questo, eh. La bellezza dell'era del fuoco, che è indubbiamente delle cose bellissime, addombrata piano piano, millennio dopo millennio, dalle cose terribili, oscure, e devastantemente terrificanti dell'oscurità, della stagnazione. Bloodborne è qualcosa di particolarmente diverso. È proprio questo il suo bello. Vedrai che Bloodborne e i suoi protagonisti nei confronti dell'oscuro o di come lo interpretano ha una filosofia, è un comportamento molto diverso. Sì, sì. Faccio il carichino? No, l'armatura, l'armatura. L'armatura, giusto. La trovi da l'ancella. Come ho fatto? No, voglio sapere come ho fatto. E hai avuto un contatto troppo forte. Offro le ceneri? Non so, tranquillo, no. Vai giù e trova l'armatura finale. L'armatura pazza. Elmo dell'anima dei tizzoni, manifestazione divina dei signori dei tizzoni che per primi vincolarono la fiamma. Ricorda un elmo da cavaliere orrendamente bruciato e sfigurato. Sul retro è ancora riconoscibile una corona deforme. Non è nient'altro che un guscio vuoto che però ricorda ancora i grandi signori e il nobile sacrificio del vincolo del fuoco. E anche la corona, insomma, è evidente che richiami il giocatore. Ricorda una corazza da cavaliere orrendamente bruciata e sfigurata, simile a una cassa toracica deforme. Vedete, manifestazione divina dei signori dei tizzoni. E però stavolta avverto che non sia autoproclamata questa divinità per una volta. Non è essere Dio dal punto di vista di Gwyn. No, no, infatti. È veramente qualcosa di divino questo. Questo sì, è l'unione di frammenti di fiamma e anime bianche incredibilmente addensate in un'unica volontà. Sì, il nobile sacrificio, concordo con la chat, nobile, secondo chi lo ha difeso. Quindi diciamo che in Blind tu ci avevi preso, il boss è la fiamma. Diciamo che non mi sarei mai aspettato una cosa del genere. Io credevo una cosa molto più appunto all'antico, quindi non ci ho proprio preso. Però, alla fine, sono stato colpito con un messaggio simile, sì. Tra l'altro, io in Blind, anche se l'ho avuto un mese pre-release, quello che è accaduto è che aveva avuto Dark Souls 3, tu pensa che Incubo, una cosa che non dovrebbe mai succedere nel mondo moderno, ha avuto una release eterogenea, disomogenea. Quindi in Giappone è uscito molto prima che da noi. E questo ha creato il panico. Quindi anche se io l'ho avuto pre-release, quando poi è uscito in Giappone, eccetera, sono qui c'è leggera degli... Quanto tempo prima del Giappone l'hai avuto? Questo non lo ricordo esattamente, credo comunque una settimana o qualcosa del genere. Non tanto, quindi. No, di rispetto al Giappone no. E quindi quando sono arrivati gli spoiler e così via, in uno dei commenti dei video c'era stato un presunto spoiler di boss finale che mi aveva completamente imbestialito. Era finto. Era inventato, esatto. Però mi aveva fatto fare speculazioni nella delusione comunque, pazze per decine di ore. Perché il boss spoilerato era la Contessa della Cenere. E io ero convinto che la Guardiana del Fuoco si sarebbe rivoltata contro di noi. A un certo punto. Per il falso spoiler. Certo, guidato dal concetto della Contessa della Cenere. Esatto. Pensavo che allora fosse la Guardiana. Infatti, durante i fatti, nella cutscene finale, quando prende i fuochi, dicevo Eh, Calli, adesso, adesso, cioè, li usa per sé. E invece no. È terribile quando hai un gioco in anteprima ma sei pieno di spoiler intorno. Guarda, è... Un giorno forse capirò cosa vuoi dire. È qualcosa che... Spero di non vivere mai. Mai, mai. Mai. Ora puoi andare... a ricaricare. Accidenti a te che mi hai dato l'idea della Blindra. No, comment. No, 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 no. In senso, in generale. Sì. Allora. Allora. Scarica. Mezzanotte e 26, direi che è lui. Yes. Scarica tutto. O siamo comunque riusciti a fare quattro ore di live, eh? Intatti, è incredibile. Sono schifo. Archeus dei tizzoni. Proprio lui. E mi chiedono se alla fine guardiamo il trailer di Dark Souls 4. Ah! Lo portiamo direttamente noi. È nei file nascosti che abbiamo. Sabacua Yoldata, ma certo, ragazzi. Comunque, prima di prendere questo finale, ci tengo ancora una volta a ringraziare tutti, ragazzi. Davvero? Veramente un gran bel viaggio. Sì. Uno, il primo di tanti, insieme. È stupendo, ne parlavamo con Mike qualche settimana fa, come queste due community si siano sinceramente e affettuosamente fuse. Io, continuamente, cioè, mentre siamo in live insieme, magari, su due giochi diversi, vedo gente che segue entrambe le live. È fuori di te. Sì, sì. Voi state male, però è bellissimo. È bellissimo, è vero, è fantastico, ma l'ho visto, l'ho sentito fare anch'io tanto. Bellissimo. Allora. Allora. Prossimo step. Evochiamo la guardiana? La contessa della scenera, eccola qui. Esatto. Ok. Fai super attenzione. Anche questo è un finale segreto. Perché è quello degli occhi. Ok. 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 una guardiana del fuoco con il fuoco fra le mani il fuoco certo penso che lo stesse guardando per pura curiosità non ci farà niente lo ha tutto completamente secondo te fra le mani? si tranne per un dettaglio ma io stavo aspettando oddio oddio si stava che figo però che finale del merda cioè nel senso non mi faceva presagire nulla di buono praticamente le piccole braccia di cui parla sono i vecchi vincoli i lord di Lothric più antichi che magari avevano qualche braccio nel corpo altri vincolatori che non sono rimasti cenere insomma le fiammelle danzanti le fiammelle danzanti esistono ancora però no non fa presagire granché di buono probabilmente lo spegnimento forzato non provocherà lo stesso putridume immediato ma arriverà comunque in maniera in maniera nullificante di qualunque sforzo e di qualunque risultato tuttavia tu hai notato alla fine quello che volevano tu notassi nel finale ossia che avevi controllo potevi muoverti posso colpirla ricarica e prova perché se quello era un finale segreto quello che potresti avere intuito attraverso quel movimento e quel segreto di interazione per un attimo mi è sembrato di poter giocare poi mi sono mosso ed effettivamente potevo l'inquadratura ti torna a quella di gameplay si spegne il rumore della cutscene che significa avete visto il gioco in anteprima eh ragazzi mi spiace purtroppo dovete sapere che nintendo ormai pubblica anche su playstation o meglio microsoft si è comprata nintendo costringendola a pubblicare su playstation magari si? ti apposto? madonna ragazzi il giorno in cui bill gates compra the pokemon company io sono nudo in mezzo alla strada esatto con il disello verniciato di verde come il esatto 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 se phil spencer compra the pokemon company non succederà mai no mai go secreto dopo secreto e se schippo la cutscene non io credo tu possa ma non lo faccio da troppo tempo esatto tanto dura comunque un minuto e mezzo tipo se la uccido contessa della cenere boss fight finale si sta un'altra quattro ore qua cazzo me ora la voglio la contessa della cenere anch'io la volevo tantissimo bellissimo la contessa della cenere no ragazzi è inquantificabile quanto a quanto si venderebbe the pokemon company no no è inquantificabile acquistabile credetemi quantificabile il primo fling quickly fades darkness will shortly settle but one day tiny flames will dance across the darkness like embers linked by lord's pass adesso le mette un piede sopra bravissimo si lo sapevo te lo sei ricordato eh bravo 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 sono orgoglioso di te è che non sono blind allora ok questo lo interpreto come il bad ending della chiesa nera cioè F proverà a tenersi quella brace ma non è assolutamente in grado di farlo no no si incenerirà o probabilmente comunque non ne avrà controllo cioè avrà la fiamma con sé ma sarà semplicemente un bracere che va in giro a spegnersi per natura comunque perché è il suo destino sono d'accordo noi ragazzi voi non avete idea di quanto ho giocato a demons remake voi non avete idea io ho cominciato questa roba di dark souls insieme perché non riuscivo a staccarmi da demons ero dipendente ma non sto scherzando ero diventato dipendente da demon souls remake non facevo altro tutto il giorno durante le vacanze di natale 2020 questo è qualcosa che nella tua chat nella mia chat chiunque aveva vissuto il 2011 prima ancora in realtà in maniera più seria del 2008 però nel 2011 quando è uscito dark souls al di là della generazione che era c'è stato un periodo di anni in cui era difficile riuscire a divertirsi con altro perché sembrava in quel periodo l'unico vero videogioco era difficilissimo ritornare in certe meccaniche chiuse meno libere più diciamo piatte nei confronti della tridimensionalità di lord run di quello che era il gameplay gdr action che ti offriva dark souls dark souls è stato per un periodo un'esplosione di anche preoccupazione perché a un certo punto dicevi ma io riuscirò a divertirmi con altro adesso per fortuna sì però è stato un botto folle cioè la settima generazione era talmente letargica all'epoca me lo ricordo che ha che ha completamente stravolto tutto quel gioco loro prima venivano da tenchu loro sono venuti in parte anche da tenchu da armored core ah c'è anche armored core vero sì sì ma poi ci sono anche titoli più particolari come shadow tower è una sorta di proto bloodborne in prima versione ok poi c'è come si chiama eternal ring che non ho giocato che però secondo me potrebbe avere qualcosa di elden ovviamente kingsfield ragazzi ovviamente kingsfield dungeon crawler sì 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 kingsfield è il proto dark souls sì invece però diciamo che è con demons che hanno cominciato a fare la loro fortuna sì a comprendere in cosa erano bravi anche se demons stava rivelandosi un fallimento sì stava venendo sviluppato in maniera a quanto pare insufficiente ed è subentrato Miyazaki a due terzi dello sviluppo ah Miyazaki non ha cominciato con demons ma a metà di demons sì lui non ha cominciato dalle fondamenta di demons ma dal salvare demons ho capito non lo sapevo un paio di capitoli dopo era presidente della compagnia beh giustamente ecco come mi ricorda un po' la storia di Kojima quando andavano bene le cose sai che non si sa ancora per esempio chi è il direttore di Legend Pokemon Arceus non si sa no ma come lavorano è stranissima sta cosa addirittura ha secretato o comunque non condiviso beh immagino che nei titoli di coda si saprà però sì no certo ovviamente non è mai stato comunicato Miyazaki è Miyazaki è Miyazaki a un certo punto ragazzi vai da Arceus e Arceus ti fa why don't you die in a ditch sai che se apri mentre finiscono i crediti la mia live c'è un ragazzo che ha disegnato come Soul of Cinder sarebbe potuto mutare dopo aver assorbito Phalanx sì viene a vedere arrivo in live tua sì aspetta che la metto eh no aspetta posso metterla a schermo forse sì ma devo fare l'attenzione aspetta allora aspetta dammi un secondino ah ce l'avrò aspetta modalità studio perché ho cambiato tutte le scene inscription vabbè ma se io faccio così schermo cattura schermo tu intanto lasciamelo lì ah no per ora ho anche ho anche tolto ti farò la sorpresa ma nulla non è così cioè in realtà sì ma è lo schermo tre no lo schermo due ecco qua ok voi non vedete ancora niente vero ok 3 2 1 let's go ok ci sono sono da te che bello con questa musica poi ma è veramente bello quindi lui ha immaginato che Phalanx quasi prendesse il controllo non ovviamente a livello mentale ma a livello di potere che la fiamma attingesse a Phalanx più di tutti gli altri è stato molto bello un bel dono è un bel è un disegno bellissimo ok sai che ne manca uno è quello del vincolo bravo bravo immaginavo questo ovviamente è il segreto nel segreto infatti non ha neanche un trofeo questo questo il mio quello che ho fatto ora quello che hai fatto ora adesso anche per gioco visto che volevo che tu lo sapessi così per farti una correlazione divertente tra cosa sarebbe stato Phalanx se non non assorbito nella lore ottimo ho evitato la contessa scusami va bene usa le anime che ti ha dato Phalanx usa l'anima che ha condiviso con te tutta ovviamente preso ora sono Phalanx mamma mia ho 2 milioni e 600 mila anime leggo bene sì e ti serviranno in parte perché per ottenere il vincolo devi liberarti dei tuoi segni e bocchi oscuri ah e quindi non dovevo propriamente ammazzare lei no la contessa mi serviva ah ma devo backuppare prima ah beh sì era già ah sì giusto sì devi backuppare no non l'hai già fatto no ok devo scaricare vai è normale che la qualità sia bassa stiamo guardando il pip zoomato legende pokemon ring devo fare scaricare scusate mi guardo sempre tipo quattro volte quello che sta facendo eh lo so genshin impact in anteprima bravi sì wow ho visto che l'hai provato l'ho provato sì 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 l'ho cominciato l'ho cominciato ce la facciamo una scioppata su genshin impact un giorno ma guarda genshin impact alcolico sì esatto si beve finché non si trova un 5 stelle chad gaming dobbiamo fare questa rubrica chad gaming sì esatto dove facciamo tutte le cose sbagliate stupide dannose esatto per la salute e tutto quello che ci circonda e spacchettatina su fifa ma tipo con i soldi grossi sì ma per me il fatto è che per me la spacchettatina su fifa sarebbe il chi è questo 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 ormai sì ma questo è forte ma questo è forte ma ce l'ha questo il Perry cos'è il fuorigioco no è così a Ronaldinho Perry no Ronaldinho ormai non gioca più cazzo però questa musica come boss lo era lo era ci stava no dico proprio in quella fight ci stava ah sì guarda finché il boss finale di Blood di Elden Ring ha quella del main theme io sono contento Miyazaki non deve farmi il Miyaz devi metterla e basta sono d'accordo è veramente molto bella allora torno indietro quindi possetto facciamo la mod tu pensa la fiamma che fa ma che cazzo ma sei venuto a gonfiare il dio e poi te li allora parlale usa le anime sì vai boom ti è costato parecchio eh 65 cioè 650 mila allora vai parlare con Yuria così vediamo se è contenta sono sicuro che sarà sarà entusiasta esatto bravi allora metti esatto metti il volume delle voci a 10 allora concentrati basta senti che bello quello che dice lo sai già ma senti che bello che è sentirlo uh ma non oscura forte lei wow è veloce attacchi diversi boom peccato dai fammi giocare Yuria eh no questo non posso quasi ah era perfetto questo non si può vero no quello no va bene va bene va bene va bene hai voluto tu arrivo oh 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 Grazie. Ah, questa è weapon art, non posso. Oddio. Oh no. Occhio! Mamma mia. Curati. Ah, ma non ho più mana, ecco perché. Ah. Il cacco. Eh, cacca la morte, esatto. Il cacco. Eh, non posso, non fa danno la cacca. Magari gli metti tossicità. Il cacco. Prendi il cacco, questo è quello che penso. Guarda la chiesa marrone, eccola. Eh, sì, intossicato io mi sono intossicato però. Curati e uccidila, presto. No, 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 lei deve morire di cacco. Eccola. Saidoni e Sabaku parlano di lore e di roleplay per quattro ore. Also, Saidoni e Sabaku deve morire di cacco. Deve morire di cacco. Cacca Iuria. Caccala subito. Get caccaed. Esatto. Ceneri di cacco. Iuria caccata. Avversario potente caccato. Ah, finale di arroio, può dir poco. Allora. Ceneri di Iuria. Avere tre fondatori della chiesa nera di Londor ha permesso di tramandare l'eredità di Iuria. Se ne sarebbero occupate le due sorelle per assicurarsi che il loro signore faccia propria la fiamma per il bene di tutti i vacui. Beh, nel finale vero ci sono riusciti. Ma tu considera... Tra l'altro è arrivata anche l'altra sorella sul finale. Esatto, esatto. Se tu uccidi Iuria, il finale non ti è precluso, eh? Beh, giusto. Ti è precluso solo se risani i buchi oscuri. Ora puoi vincolare. No, non ho letto le sue ultime parole, perdonatemi, stavo morendo da ridere. Ah, vabbè, ma te l'avevo già rivelata, era Kath, perdonami, ho fallito. Non le avevamo già viste? Le avevo viste da te, no? No, te le ho raccontate, sì, te le ho raccontate. Ah, me le avevi raccontate? Io non mi ricordo, mi ricordo. Sì, sì, sì. Credo sia stata una delle prime cose che mi hai raccontato di lei dopo che eravamo diventati Lord of Follows. Esatto, esatto. Bravo. Mamma mia che risate, mi facciamo alla pancia. Ok. E ora cosa faccio? Guardo te? Ah no, vado a vincolare, giusto? Ora avresti dovuto guardare me se non ti avessi dato le anime. Ma io sono un maestro previdente. Ma che bravo. Maestro, vero poggo. Vero cacco. Vero cavolo cacco. Ho fallito, cacco. Ah, vabbè, sì, avete ragione, ragazzi. Se vogliamo fare proprio la cosa... Va bene, no? Perché no, perché no? Sì, Yuri ha anche un'arma. Che tra l'altro può essere interessante se vuoi vederla. Perché mi ha droppato anche l'anima? Non l'ho visto. No, ha proprio... Ti lascia l'arma. E l'ho droppata? Vediamo, fammi vedere dove si prende l'arma di Yuri. Stavo morendo alle risate, scusatemi. Stavo detonando. L'arma consumata, direi. No. No. In teoria è un'arma che tu... No. No. Non l'ha raccolta. Droppata ma non presa. Vai a raccoglierla. Perché è un bel richiamo a qualcosa di passato. Un bel richiamo? È una katana, comunque. Sì, 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 sì. Qualcosa che aveva bisogno di essere ricontestualizzato di nuovo. Quindi Dark Souls 2. Oh, yeah. Un'arma che adoro. Che ho sempre amato in Dark Souls. L'arma di... Tipo una Shandra, roba del genere? È l'arma di Joel, in realtà. L'arma di Joel? Sì. Giù, 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 giù. Non so. Cos'è che è morta? No, devi andare a cercare dove era il suo personaggio. Quindi dove ne hai parlato. Ok, ok, ok. Pensavo il cadavere. Ah. Troppo assurdo se batti il boss finale evocandola. Sì, di te. Vediamo un po'. Se c'è un oggetto. No, no, eccola. No, c'è qualcosa. Vediamo, vediamo. Vento oscuro. Vento oscuro. È l'arma di Agda-In. Ti ricordi Agda-In? Il finito. Vero, 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 vero. È il tipo delle tombe. Una spada maledetta dalla lama invisibile. Arma prediletta da Yuria di Londor. Si dice che Yuria, studiosa della Chiesa Nera e spadaccina letale, abbia ucciso centinaia di nemici con quest'arma. Mira attentamente e balza in avanti con un affondo. La lama invisibile penetra qualsiasi scudo. Non esiste difesa dal vento oscuro. Una katana che supera gli scudi è molto figa, eh. Sì, l'armatura viene troppata solo per attento al boss. Vabbè, ma non è importante questo. Vado a fare il vincolo. Vai a fare il vincolo. No, no, non ti fa, no. Dai Nelden, no? Esatto, esatto. Ci siamo, e questo è l'ultimo finale. Tra l'altro è un finale che mi piace. Sì? Sì. Per me è tristissimo. No, 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 no. Tristissimo di tutto. Ok, bravo. Hai già colto. Bravissimo. Ok, cioè. Solo che... Quello che ti spaventa di più... Eh, ma la cosa bella è che è triste. Hai indovinato. Ma lo hai consapevolmente. Ti ricordi come... Guarda, voglio che tu... Questo è l'ultimo finale. E li hai visti tutti. E tra l'altro è nell'ordine che speravo. Questo è l'ultimo. Ti ricordi... La risposta è sì, ma voglio che tu ti concentri un secondo. Ti ricordi com'è il vincolo in Dark Souls 1? Sì. Praticamente... Tu chi fa no, come fai tu qua nel tuo vero finale. E praticamente ti circondi di fuoco. E poi... Poi c'è uno zoom out, se non sbaglio. Sì, c'è un'esplosione. C'è uno zoom out e... Arriva la deflagrazione del vincolo. Quella che ha fuso la roccia che ti circonda. Sì. Ok. Quello è il vincolo del fuoco. Va bene. Ora stai per vincolare in Dark Souls 3. Ci sarà un crepitio del cazzo, probabilmente. Vincolo del cazzo. Non succede nulla. Non è servito a niente, praticamente. Completamente inutile. Tu praticamente sostituisci solo Cinder. Ma il tuo vincolo... Tu prendi fuoco, ma non c'è neanche una deflagrazione. Ormai la fiamma è troppo debole. Eh, ma sostituire solo Cinder serve a niente. Non verrà neanche più nessuno, probabilmente, a sfidarmi, quindi... Esatto, esatto. Esatto. Sono d'accordo con la chat. Attendi la fine del mondo. Sì, esatto. Con un po' più di calore. Esatto, sì. Esattamente. Non serve a niente. Però... Un finale che comprendo. Cioè... Cioè... Molti di voi magari lo avranno fatto con convinzione e non posso pensare che sia sbagliato. Perché anche io ho avuto tanta paura alla fine. Che la scelta giusta... Cioè... Mi sentivo orientato verso il vincolo perché almeno mi sembrava più sicuro di altre cose. Mi sentivo in parte di almeno scaricare la responsabilità anche su Gwyn, su tutto quello che mi aveva preceduto, senza prendermi il rischio di mandare il mondo a meritrici. C'è da dire che il finale della Chiesa Nera credo sia l'unico vero finale. Esatto. Che porta a un'evoluzione del mondo. Non sappiamo di che tipo. Però intanto... Per quanto mi riguarda potrebbe essere persino l'inizio del mondo reale. Esatto, sì, 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 certo. Cioè il mondo vero degli uomini. Sì, 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 certo. E quindi in realtà F diventa questo dio del Pantheon insieme a tutti i maggiori ranghi della Chiesa Nera. E poi sotto di loro si sviluppa il mondo degli umani con la tecnologia che conosciamo e tutto il resto. Non penso che uscirà mai un sequel di Dark Souls è finito, basta. Miyazaki ha detto che se mai esistesse Dark Souls 4 sarebbe il suo canto del cegno. Ah. Ha detto che Dark Souls è finito, ma se voi che intervistate volete proprio una risposta, non lo farei prima che fosse il mio ultimo lavoro. Beh, è comprensibile. Sì, sì, sì. Però questo è effettivamente il finale. Si vede proprio tanto. Ci ha messo tutto, ci ha messo veramente tutto. No, ma ci sta a fare altre opere che condividono in parte il concept. Ma Dark Souls, come Dark Souls, secondo me basta. Basta così. Esatto, esatto. Sono stracurioso per Bloodborne, ma arriverà molto in là, ragazzi. Molto, molto in là. Fine 2022. 2022, inizio 2023, ma sentite Babbo Cydonia. Adesso faremo praticamente un mese e mezzo di Arceus. No, un po' meno di un mese in realtà. Però comunque un mese serrato due volte a settimana. Sì. Vedremo se riusciamo a finire. Poi Elden Ring. Quello è quasi un anno. Poi secondo me, aspetta, e poi secondo me, risentite Babbo Cydonia, secondo me esce la nona generazione quest'anno, quindi... Ah, beh, sì, no, sono d'accordo. Questo è l'anno della nona, sì, 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 sì. E quindi è di Dahlia con Pokémon fino a fine anno. E poi... Bloodborne. E poi Bloodborne. Sekiro. E poi sì, e poi ti dico Sekiro, però poi Boo, che ne so. No, poi Boo, certo, certo. C'è qualcos'altro che invece dice, cazzo, ma facciamoci la Veteran? Esatto, sì, no, eh... 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 Per esempio in chat, qui mi stanno chiedendo ovviamente Pokémon bianco e lo dovremo fare, quindi... Sì, no, ma a me me lo chiedono da sempre, eh. Da sempre, da sempre, da sempre. Pokémon bianco? Sì. Eh, devi farlo con me. Mi dispiace, è il mio gioco preferito. Me lo devi. Che spettacolo. Che bello. Guarda, vuoi sapere... Cosa... Per fortuna, perché è una cosa che ci accomuna e sicuramente ti ha anche formato, ma... È una cosa che mi dispiace da morire. Tu conosca già... Ok. La Metal Gear Saga. Allora, giocata proprio ai tempi, all'uscita di tutti. Quindi pensa quanto ero piccolo. Beh, tu considera che noi, durante il tuo talk show reso nostro da te, abbiamo avuto questa sinergia e incredibile riflesso, eco... Di Undertale. E riverbelo di Undertale, ma per me, runner up è Guns of the Patriots, quindi... Ah, pensa un po'. Sì, sì, sì. Snakeheater mi ha fatto innamorare della Metal Gear Saga, perché io quando uscì su PS1 ero troppo piccolo. Io ho cinque anni meno di te, ma erano qui cinque anni in meno. Sì, sì. E non ti facevano godere di Metal Gear su PS1. È certo, io quando uscì... Grande, grazie. È uscito Metal Gear che io avevo undici anni e tu eri un bambino. Io giocavo a Crash Bandicoot. Io ero esattamente a Crash Bandicoot in quel momento. Io ero il ragazzino di undici anni che fa... Ma che figata è, no? E lo capivi, lo giocavi. Ma tra... Cioè, la differenza tra un sessantenne e un cinquantacinquenne e un undicenne e un ragazzino di sei... Un bambino di sei anni è molto diversa. Però, quando poi ho giocato a Snakeheater ed ero più grandicello, andavo, credo, alle medie, e stavo finendo le medie. Sì. E lì ho detto, cazzo, ma che è sta roba? Ritornato indietro, poi è andato avanti. Ok. Però, comunque, cioè, vissuti con una maturità che non era quella di ora. Non li hai mai rigiucati? No, mai. Quindi, cioè, è fattibile, se vuoi. Se vuoi è fattibile. 2024. Esatto, hai capito? Ma io... Me lo segno. I ragazzi si segnano che potrebbe succedere. E lì... Lì abbiamo lo stesso, non di interazioni, perché c'è molta più... Cioè, l'esposizione di Metal Gear Solid è bulimica, però lì avresti tante chicche. Ok. Tante chicche, tante, tante, perché su quello io sono abbastanza preso. Monster Hunter, Souls, Metal Gear sono verticalità abbastanza pazze di me. Quindi, Metal Gear in particolar modo vedresti cose fighe. Ok, ok. E invece, Ico, Shadow of the Colossus and Company li conosci, le giocate? Shadow of the Colossus, sì, Ico no. Ma qui abbiamo... Ma qui abbiamo terreno... Beh, è uscisi in vecchia. Va bene, perfetto. Allora, su Hollow Knight... E della Sgardia? Della Sgardia no, mi manca. Della Sgardia mi manca. Oh! Intriguing. E invece io qui dico di Shin Megami, vorrei ragazzi, credetemi, racconterei Shin Megami come un papà che fa vedere a suo figlio come si va in bici, ma non è adatto agli streaming. Eh, lo so, lo so. Lo dico da amante della saga, è praticamente il mio RPG preferito. Non è... Non è fattibile, vorrei, ma non posso, come si suol dire, non sarebbe fattibile. Sì, pur sì, sì, i Shin Megami sono cattivi in questo. Xenoblade già più fattibile, ma comunque stra difficile, ma Shin Megami proprio droppo, perché... Vi rompereste i coglioni, anche perché io so che il tipo di giocatore è Mike. Sì, eh, sì, sì. Ed è il giocatore che sono io, quindi vi romperò. È il motivo per il quale non ve lo porto. Perché se io in Shin Megami trovo un boss che non va affatto in quel momento, lo faccio. E passano, veramente lì, quattro ore. Sì, 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 è vero. E, insomma, non sarebbe proprio divertentissimo. Persona idem con patate, ma, insomma, lì è un discorso diverso, non per la difficoltà, ma per tutta la parte social sim, dove... Esatto. ...ci raccontiamo le storie. E, comunque, secondo me possiamo fare veramente tante cose. È vero, è vero. Eh no, ragazzi, su Nier niente, Nier giocatissimo, cioè Nier automata, finito, consumato, divorato, goduto fino all'ultimo finale, fino all'ultima lettera dell'alfabeto. E, quindi, no. Però, insomma, ragazzi, possiamo fare veramente mille cose. Ah, giusto, c'è... O Mori ci resta male? C'è la Genocide. La Genocide di Ander. Quella, quella dobbiamo farla. Però quella, ti dico, dovremmo quasi trovare il modo di infilarla quest'anno. O comunque, infiliamola... No, sì, quella sì, quella sì. Infiliamola quando sentiamo un pizzo di Deltarun 3, 4, 5. Dura pochissimo. Esatto, sì, esatto, sì. Ah, poi, per quello ti dico, che cosa so, un mese? Infiliamola quando sentiamo il puzzo di Deltarun e ci mettiamo dentro... Esatto, quando c'è Tobi che abbaia, noi prepariamo la Genocide. Esatto, esatto, esatto. Ma perché non ha giocato Automata, Mike? L'ho recensito anche. Ah, ok, ok. Io l'ho scoppiato Automata. Però non ho consapevolezza di Drakengard, Nier 1. No, ma quello neanche io. Quello neanche io. Quello è da prendere. No, 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 io parlo di Nier Automata. No, Automata lo esploso. Eh, porca troia. E comunque, ci manca un filmato, quello che... Sì. Hai seguito tu comunque in qualche modo, anche se la sua realizzazione poi è... Stata fatta da Chiara e la sua sorella. State per vedere qualcosa che io nemmeno ho visto, che Francesco non ha visto, è che nasce se noi abbiamo già stressato in modo inumano ai tempi Badafra, poi Emdi. Cioè, abbiamo preso i nostri artisti Furcae, abbiamo preso tutti i collaboratori di tutti e li abbiamo torturati. Quest'ultimo video che state per vedere... È un miracolo. Non so come possa esistere. È qualcosa che è uscito fuori praticamente in tre giorni e mezzo. Cioè, è fuori di testa. Io ho visto Chiara lavorare sulla sta cosa e so che anche la sua sorella tipo non ha dormito. A me mi ha detto che ha dormito una notte in quattro giorni, quindi... È il loro Hamon incredibile. Sì, esatto. Questo esiste, questo è... Beh, scusate ragazzi, scusate. Cioè, abbiamo avuto le opening, pensavate che non avremmo avuto un ending? Eh. Quindi... Quindi, che vuoi fare? Allora, io direi che la facciamo vedere, però non chiudiamo poi. Poi torniamo a noi e facciamo saluti. Certo! Ma certo. Va bene. Ok. Allora, io ce l'ho pronta. Anch'io. Quindi, se vuoi, la mandiamo col countdown, faccio il countdown, va bene? Sono prontissimo. Very good. E allora... Cinque, quattro, tre, due, uno, go! ... ... Grazie a tutti. 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 Quello che era stato interpretato pre-Lord of Hollows da Elion in Dark Souls 2. Elion è l'unica entità che si poteva affiancare al controllo della stagnazione e dell'universo ormai post-fiamma ma intra ormai ibridazione della disparità che ha rappresentato F. Uno dei commenti più belli, grazie ragazzi. Twitch Italia ha scoppiato. Sono contento. Grazie, grazie, grazie. E volevo che la serie finissero. Deve essere raccontata per l'appunto che deve essere raccontata per l'appunto e che è anche sulle loro spalle. Quindi esatto, la forbice del deserto ragazzi, ma quella è la stretta di mano del deserto. Quindi sono contento. Che bello. È stato un finale meraviglioso. Perfetto. Bene. Ci siamo. Io direi che è arrivato il momento. Quattro ore e dieci. Sì. È arrivato il momento di salutarci. Sì. E di salutare Dark Souls. Esatto. Ragazzi, era ed è e rimarrà la fine della Veteran Run. Dei Souls, non dei Soulsborne, ma la trilogia di Dark Souls è finita. Cavolo. Come lo ha fatto. Incredibile. È stato stupendo. L1. Sì. Pieno. Quindi, noi ci aggiorniamo per Diamond and Pearl. Io, completamente sconvolto da quello che ho vissuto la scorsa volta, anche a livello emotivo e personale. Ti ho visto preso, ti ho visto preso e rido perché... Perché I know e in realtà anche i ragazzi sanno ma sono bravi e non ti hanno spoilerato niente. No, niente. Così come nessuno ti ha detto che avrei riccato la nostra password preparando anche la loro partecipazione al tuo finale. Non ne sapevo niente. Non ne sapevo niente. Guarda, ti posso mettere un po' di hype? E lo metto in realtà anche a loro perché neanche loro sanno esattamente come succederà una certa cosa. Vai. Ti fidi di me? Assolutamente. Adesso, ormai, senza alcuna neanche più effimera ombra di dubbio. E allora, credimi, per la live del 27 di gennaio, quindi l'ultima di Diamante e Perla, mi devi dare la stream key. Oh, oh. Oh, oh. What? Mi devi dare la stream key. Tu devi... Trimmerà una regia per te, ok? Tu non ti devi preoccupare di niente. Ok. Nice. Ok. Oh, oh, sì. Ok. 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 Che... Che hype. Che figata. Ok. Questa cosa è pazza. Mi piace. Questo sì che è un finale cliffhanger. Venissi. Ovviamente la userò per streamare nudità. Certo, certo. Streameremo insieme, ovviamente. Cioè, sarà la tua live, però avverrà attraverso... Non il tuo OBS. Poi avrà ovviamente tutte le tue grafiche, tutte le tue cose, però ho bisogno di questo. Che figata. Fidati. Tu fidati, io sto preparando questa cosa da un po'. Ok. Non puoi, non puoi immaginare. No, no. Non puoi immaginare. Can't wait. Can't wait. Molto bene, molto bene, molto bene, molto bene. Ah. Grazie mille, ragazzi. Dai. Grazie, grazie di tutto e... Raidiamo... Raidiamo Diego. Sì. Tanto poi continueremo a raidarlo ogni venerdì, cambia solo il gioco. È fatta. Molto bene, molto bene. Allora, attendo il momento in cui farò bannare il canale di Mike of the Desert. Diego! Tentemi il bann in diretta, sarà il titolo. Usurpazione. Grazie mille, maestro. Grazie mille di questo splendido anno insieme. E al solito, buon render. Al solito. Fantastico. Fight. Buon riposo. Abbracci. Ciao caro. Ciao. Devo andare a dormire. Ma... Ha funzionato tutto. Ogni cosa. Ogni cosa. Ha funzionato. E... Se adesso, per un po', si chiude il party, questo è stato, per me in maniera ufficiale, sempiterna, sempiterna, phalanx, che alcuni di voi hanno rivisto dopo tanti anni, ricontestualizzato, evoluto, glorificato per sempre anche nei miei contenuti moderni. Se mai esisterà Dark Souls 4, sarà l'unico caso in cui lo rivedrete. Salvo, ovviamente, un remake di Dark Souls. Ma... Non avrà phalanx. Forse. Vedremo. Potrebbe. Vedremo. L'anima oscura remake esisterà solo se esiste il remake di Dark Souls. Ma questa è stata un'esperienza speciale. Grazie a tutti. Credo di aver raggiunto ogni possibile record stanotte. E... Non è possibile ringraziarvi abbastanza. Sono contento che però il significato sia che vi è arrivato quello che speravo. Vi è arrivato il risultato che speravo e sono contento e commosso che sia arrivato anche a Saedonia. Grazie a tutti. E credo che sia, spero che sia, perlomeno come minimo visibile a tutti il supporto che è stato dato da ciascuno di voi con la presenza, l'affetto, il tifo e anche doni immensi. Sub donate a dozzine e nel caso di... Quello che è successo a inizio live, centinaia. Ho visto un supporto per quello che faccio e quello che si fa. Indimenticabile. Tomeskrt. Praticamente... È... È... Un investitore. Ma troppi siete stati. Troppi. Masterkiste. Quanti siete. Vedo tantissimi doni ragazzi. Navian quindicesimo. Siete tanti. Tantissimi. Non vedo l'ora che possa arrivarvi anche l'evoluzione del canale con emote e tutto, ma... Grazie di cuore. Sei già avalon, fundor. Un donatore anonimo sta regalando 50 abbonamenti. E Tomes, 100. 150 abbonamenti. Devo far sì che ognuno di coloro che l'ha ricevuto ne sia fiero. Immensamente fiero. Migliaia di bit. Grazie di cuore. Spero di riuscire a recuperare al meglio anche quello che ritenete e ritengo essere il contenuto fondamentale del canale. E dei canali. Ho avuto parecchio marfi in questo periodo. Forse se ne aggiungerà un altro. Diciamo che devo necessariamente tenervi aggiornati anche su altri piccoli tipi di sfortuna che stanno arrivando, ma non è l'argomento di stasera. Il fight è più utile che mai, ma voi siete stati indimenticabili. E ha funzionato. Tutto. Ogni cosa. Incredibile. Buonanotte ragazzi. Semper Fi. Nato con la Metal Gear Saga. In SNM 4.0, tra un bel po' di tempo, se tutto funziona, il canale principale avrà un ritmo praticamente finalmente diverso. Perché avrò collaboratori e potrò fare tutto quello che desidero senza l'imbuto del posto e dell'essere uno solo. Per ora rimango uno solo, faccio il mio meglio. E vederlo premiato in questo modo è trascendentale. Oh quanto ho da dire, quanto vorrei fare. Quanto vorrei avere già fatto un'anteprima di Elden Ring. Ho fatto le dirette molto approfondite, ma sono chiacchiere quelle rispetto a quello che vorrei darvi. Buonanotte. Grazie a For Close, grazie a Tano Kami, a Canattila, a tutti voi. Siete stati meravigliosi, sono orgoglioso di voi e immensamente felice di questo finale. Non vedo l'ora di rivedervi alla prossima diretta. Addio Veteran Run. Alla prossima.